Perché ci troviamo qui? Cosa ci ha mosso? Ci ha mosso il fatto di aver provato a verificare, l'ho fatto io, qual è il ruolo della medicina oggi, visto che se ne parla molto, visto che è diventata centrale la questione sanitaria. Quindi qual è il ruolo della sanità nel 2020, facendo il confronto con quello che poteva essere la critica che è stata fatta al sistema sanitario e quindi l'analisi del sistema sanitario che ha fatto Ivan Illizi, un libro importante che ha fatto scuola, che ha fatto discutere molto, molto contestato e nello stesso tempo anche apprezzato, che è uscito più o meno nel 75, nel 76, insomma, no? E quindi cosa è successo della sanità o dell'immagine della sanità in questi anni, insomma, no? Questo è soprattutto anche alla luce di quella che era già la sua critica della sanità negli anni 75, insomma, quando la sanità era ancora molto diversa da com'è adesso, no? No, ecco, questo io, diciamo, l'ho impostato anche perché io ho cominciato a lavorare esattamente nel 75. La mia carriera ospedaliera è nata nel 75, mi sono laureato nel 75, in febbraio, e ho cominciato a lavorare in marzo, aprile, insomma, marzo mi pare, aprile. Ieri ero ancora, nel 75 ero ancora... Ecco, insomma, io ho cominciato a lavorare in ospedale, sono entrato nel marzo, aprile 70, ho fatto già amiciato in marzo, mi pare, in aprile ho cominciato a lavorare. E quindi, insomma, la mia carriera è cominciata, insomma, alla luce anche di questa cosa qua. E poi anche dell'immagine che, come dire, del modo di sentire, cioè, io ho proiettato in questa cosa anche il modo di sentire che era, o di percepire la medicina che era di alcuni, almeno, insomma, di quelli che sono laureati e che erano come io. Ho studiato in un collegio universitario, no? Dove c'era un po' anche la crema, insomma, no? Perché era un collegio dove si stava con il presalario. Allora, il 68, quando sono entrato io all'università, è stato un anno particolare, no? E quindi è stato un anno di rivoluzione anche perché i figli degli operai hanno avuto accesso all'università tutta una categoria sociale, una serie di persone che prima non avevano accesso all'università, insomma, no? Cioè, c'è stata un'università di massa, si è aperta l'università. E questo anche grazie poi a, come dire, al presalario. Cos'era il presalario? Era quelli, diciamo, più poveri e, diciamo, migliori, nel senso che riuscivano a fare gli esami entro l'anno con una certa media, eccetera, eccetera, avevano la possibilità di essere aiutati. Cioè, prendevano 500 euro, no, euro, c'erano le lire. Prendevano 500.000 lire all'anno e questo li aiutava negli studi. Allora, 500.000 lire erano soldi. Insomma, un caffè costava 80-90 lire, insomma, tanto per dare un'idea. C'era la possibilità a Padova, c'erano dei collegi-università, due in particolare, insomma, uno per i medici, uno per gli ingegneri. E tu potevi trasformare queste 500.000 lire, se eri in condizioni di povertà, cioè la povertà, insomma, di non benessere, nel senso che io ero figlio di un operaio, insomma, che tra l'altro avevi la possibilità di trasformare queste cose nel collegio. Cioè, tu avevi l'ospitalità in collegio per un anno, in un collegio universitario, e ti pagavi il collegio attraverso queste cose. Il collegio era, diciamo, allora quello che ho frequentato io era dedicato ai medici, cioè su 110 ragazzi, 100 erano studenti di medicina. E quindi, in questo collegio avevi, diciamo, tutte camerette singole, c'era la mensa interna, che era una mensa anche carina, insomma, nel senso che c'era il cameriere che ti serviva tavola, insomma. E lì eri nelle condizioni ideali per studiare. Era vicino agli istituti e, diciamo, poi vedevi tutti che studiavano intorno a te. Ovviamente tu potevi restare là soltanto se avevi una media molto alta, cioè ogni anno dovevi fare almeno i due esami dell'anno e poi dovevi avere una media superiore a quella, diciamo, della media degli studenti. Quindi, in grosso modo, si stava con una media dal 28 al 30, insomma. Ecco, sotto il 28 poi perdevi il collegio. Io ho fatto i primi tre anni di università in collegio, dopo sono andato in appartamento, insomma, così. Però, allora, insomma, diciamo, quelli che erano all'interno, per il tornare dei suoi primi, all'interno di questo collegio, passava anche una certa mentalità, no? C'erano già il movimento studentesco, c'erano già gli schieramenti politici, c'erano anche i rappresentanti, quelli che erano i movimenti di allora, lotta continua, manifesto, queste cose qua. C'era anche la destra, insomma. Allora c'era l'almirante, adesso. Il 68, però, è stato molto fortunato. Cioè, è una fortuna non da pochi essere in quel periodo lì. Era il 68, sì. E c'erano anche, e allora c'erano anche determinati ideali. C'era anche una visione della medicina che correva anche nel collegio. Per cui, diciamo così, questo per dirti, c'erano soprattutto due, diciamo, ideali che correvano, no? Uno era quello della psichiatria, no? Per cui alcuni di noi poi hanno fatto la scelta, insomma, di campo, perché c'era Basaglia, no? C'era tutta la storia di Trieste. Poi nel 78 c'è stata la legge che ha chiuso gli ospedali psichiatrici, no? E ha portato, e poi sono create le strutture territoriali psichiatriche. Perché uno era, diciamo, l'idea della psichiatria e quindi poi neurologia e psichiatria. Insomma, molti sono diventati anche, molti alcuni sono diventati neurologi, altri sono diventati neurologi con la prospettiva poi di fare psichiatria. Insomma, comunque c'era questa idea della psichiatria. L'altra, come anche, diciamo, strumento un po' rivoluzionario, cioè come strumento che toccava una certa idea del matto, la malattia mentale come prodotto di una società che era alienante, di un modo di produrre alienante, insomma, c'è tutta una serie di cose così. L'altra idea era, invece, quella della medicina del lavoro, perché cominciavano anche le lotte sindacali, tutta una serie di cose così, e quindi, diciamo, l'ambiente, no? La medicina che partiva poi dalla medicina di fabbrica e quindi l'idea che la medicina del lavoro potesse, in qualche modo, migliorando l'ambiente del lavoro, che voleva dire anche l'inquinamento legato alle fabbriche, tutto questo, l'inquinamento ambientale, eccetera, eccetera, e fosse anche un altro strumento di, diciamo, di lotta sociale. Per cui anche alcuni della mia generazione, insomma, hanno fatto poi i medici del lavoro. Insomma, c'è stato un momento della medicina del lavoro. Per cui, insomma, se vedo due filoni così un po' particolari che escono dall'idea poi di fare il medico ospedaliero, di fare la cosa così, erano queste, insomma. era quella della psichiatria e della medicina del lavoro come strumenti che potevano collegare la medicina al miglioramento di una condizione di vita all'interno della società. Quindi anche prevenzione, cioè medicina intesa anche come prevenzione di malattia. E quindi l'idea, il concetto che, come dire, è di distinguere la prevenzione primaria da quella che è la prevenzione secondaria. Allora, la prevenzione primaria era quella di evitare che l'uomo si ammalasse rispetto a quella secondaria che era quella della diagnosi precoce. Insomma, l'uomo si ammala, ma lo prendiamo all'inizio della malattia in modo tale da poterlo curare, magari, tra virgolette, salvare. E quindi, diciamo, uno spazio maggiore alla prevenzione primaria. Poi quello che ho notato nel tempo è stato che la prevenzione primaria è venuta via via meno e si è dato più spazio alla prevenzione secondaria, che vuol dire alla diagnosi precoce. E ovviamente, quando tu lavori sulla diagnosi precoce, come dire, devi mettere in campo tutta una serie di strumenti, anche diagnostici, tecnologici, eccetera, eccetera, ma non è la stessa cosa, no, di fare in modo che l'uomo non si ammali o si ammali il meno possibile perché, come dire, si interviene sul contesto in cui si vive rispetto a quello che succede quando tu curi l'uomo malato, insomma, che sei già malato e cerchi di cogliere i primi sintomi della malattia, no? Che vuol dire già mettere in atto una terapia precocemente, che vuol dire già, come dire, costruire molti strumenti di diagnosi in modo tale di fare questa diagnosi più presto possibile quando ancora si può intervenire, insomma, no? Sono due concetti diversi e nel tempo vedo che il discorso della prevenzione è passato, si è spostato molto sulla prevenzione secondaria, cioè sulle diagnosi precoce. Tutto quello, e anche la medicina del lavoro, diciamo così, è diventata una cosa un po' fantomatica rispetto a quello che era una volta e anche la psichiatria, insomma, un po' si è adagiata un po', insomma, no? Poi si è divisa, no? Nel senso che ci sono i CERT per quello che riguarda le tossicodipendenze, ci sono... E poi c'è la psichiatria che si è spostata un po' nel territorio, ma anche lì, insomma, è una psichiatria fatta soprattutto di somministrazione e di farmaci, insomma, no? Così. Ecco, questo è stato un tipo di evoluzione che ho potuto constatare io, insomma, nel tempo, no? Ecco, adesso diciamo... Diciamo che il concetto che hai espresso dei due tipi di medicina, della medicina preventiva e della medicina curativa, è importante, tanto dal punto di vista economico, nel senso che un conto è stanziare risorse per curare delle persone, no? Comunque c'è un apporto economico assolutamente maggiore rispetto a prevenire, anche dal punto di vista ambientale, perché se io mi metto in conto di prevenire una malattia, come dice lei, è quello di prevenire una malattia nel contesto naturale e sociale, cioè, devo evitare che mi vengono malattie, per evitare che vengono malattie, devo vivere in un contesto naturale e sociale atto alla mia salute, no? Quindi entra in gioco anche il contesto ambientale, il contesto ecologico, il contesto naturale, non è solamente il concetto preventivo, va bene, per non curarci noi, per evitare di spendere troppi soldi in cure, è un concetto molto più ampio, giustamente, come dice lei, perché metti in conto aspetti che sono apparentemente lontani dalla medicina, ma che hanno a che fare con la salute, perché appunto il contesto ambientale, curare il contesto ambientale e sociale è curare la persona, perché noi lì viviamo, c'è poco da fare, non siamo fuori dall'ambiente, fuori dalla società. Quindi è già un passo sbagliato che abbiamo fatto, arrivare alla medicina secondaria. Già abbiamo capito qual è il primo passo sbagliato che abbiamo fatto fino ad oggi, perché anche se ci sono movimenti ecologici, movimenti ambientali, ma hanno perso proprio il senso originario della prevenzione naturale e umana, quindi è fondamentale quello che ha detto. Quindi già il primo passo abbiamo capito qual è quello sbagliato, perché dal punto di vista economico e ambientale. Quindi già sono passati, quanti anni sono passati? Se sono 70... Ne sono passati, diciamo, dal 75, ne sono passati 45 di anni, che è un tempo lungo, insomma, adesso, no? Facevo il passo indietro, 45 anni prima del 75, era il 30, mi pare, 30, 40, 50, 60, 75, sì. Quindi, insomma, quello che era la medicina del 930, il 75, del 75 ad adesso, insomma, no? Sì. Quando nel 75 pensavamo alla medicina degli anni 30, pensavamo a una medicina che ancora, diciamo, non so, era quasi prima della penicillina, insomma, quindi ancora una medicina in cui l'anestesia era ancora col cloroformio, insomma, era una cosa molto... Ecco. I collegamenti... Si parlava già, sono solo una cosa. I collegamenti, cioè, c'erano molti discorsi legati già all'ora, mi ricordo, per esempio, il libro di Maccaccaro, che forse adesso non conosce più nessuno, no? Ma medicina ai poteri, la medicina del capitale, cioè, si faceva molto... C'era abbastanza, insomma, un'analisi della medicina, del sistema medico, come era collegato, anche in Italia, insomma, no? Poi pensiamo anche a Basaglia, insomma, no? A tutto il lavoro che ha fatto. Legata al suo collegamento con il capitale, cioè, quindi, come il capitalismo, l'industria, l'ambiente collegato all'industria, eccetera, l'organizzazione del lavoro, la catena di montaggio, eccetera, poi produceva o era causa di malattia. Quindi la necessità per fare una buona medicina poteva essere quella di intervenire sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro, su tutte queste cose qua. Poi quello che ho avuto modo di vedere è che queste cose qua sono un po' cadute e nessuno ci ha più fatto caso a questo, no? E ovviamente, insomma, la tecnologia si è molto sviluppata, quindi, insomma, di solito succede questo, no? Che quando poi si sviluppa la tecnologia e la tecnologia ti dà l'idea di di strumenti per diciamo per guarire, per stare bene, cioè colleghi il tuo star bene alla tecnologia, poi la tua attenzione si sposta a quello, insomma, no? Si sposta sulle possibilità che la medicina ti offre di diagnosi precoce, insomma, quando ho cominciato a lavorare io per darti un'idea non c'era la TAC, no? Quindi tu non potevi vedere le lesioni o le cose, per noi era particolarmente importante, insomma, nella neurologia, no? Poter vedere, cioè il cervello era una cosa astratta, insomma, potevi un po' indagarlo con l'elettroencefalogramma e poco altro. Quindi poi, insomma, la possibilità di vedere, vedere l'infarto, vedere il tumore, insomma, quando lo potevi vedere era una cosa molto... Poi è venuta fuori la risonanza, poi, insomma, sono venute fuori e questo ti dava poi l'illusione di poter avere degli strumenti per curare, per guarire cose che... In realtà, e poi finisco, poi vi lascio per la rete, in realtà, poi, insomma, quello che ho potuto vedere, insomma, nella mia esperienza è che in realtà alla innovazione tecnologica, tutto quello che è importante venuto fuori dal punto di vista della tecnologia, poi, non ha avuto dei riscontri rispetto alle possibilità di cura così importanti. Cioè, una volta, non so, una volta un malato metidictus facevi la diagnosi clinicamente, facevi alcuni esami che poi non costavano molto. Cominciavo allora la, diciamo, la scintigrafia cerebrale, insomma, era l'unico esame che potevamo avere abbastanza importante. Ma, al di là di quello, insomma, poi, un malato di ictus lo gestivi più o meno con le cure che si fanno adesso, insomma, poco di differenza. Quello che è cambiato è che allora magari tu potevi tenere due mesi un malato di ictus, riportarlo a casa, magari che era in condizione di camminare da solo perché gli facevi la fisioterapia, tutta una serie di altre cose in ospedale. Adesso, invece, costa tantissimo di esami, costa tantissimo, ma poi, alla fine, gli strumenti pratici che hai per intervenire sulla sua malattia sono quasi quelli di una volta, insomma, spesso. E quelli più, diciamo, più complicati, più raffinati, spesso hanno, come dire, anche delle controindicazioni più importanti. Cioè, ci sono farmaci che fanno meglio, cioè, che possono essere importanti da usare, ma che nello stesso tempo hanno anche effetti collaterali importanti e quindi possono far bene, ma nello stesso tempo possono anche far male, insomma. Quindi, insomma, diciamo che allo sviluppo tecnologico in senso diagnostico non è corrisposto poi uno, diciamo, uno sviluppo del punto di vista delle terapie, no? Ecco, questo è quello che posso aver osservato. Diciamo che ha accolto due punti per me fondamentali. Allora, intanto, comincio a dire chi sono, nel senso quanto potrei essere credibile o quanto potrei essere credibile, nel senso che io sono, faccio di professione il pasticcere, ok? Quindi, qui stiamo parlando di salute e di sanità, quindi, apparentemente potrei, potrei essere, no, sono, no, apparentemente, sono distaccato professionalmente da quest'ambito, no? questa riunione, diciamo che è nata questa conferenza, questo dialogo, no? Questo dialogo fra due persone distanti, sia anagraficamente, sia culturalmente, penso, no? Anche professionalmente siamo distanti, perché lei è un neurologo, io sono un pasticcere. distanti anche territorialmente. Territorialmente, vero, mi è diventato, c'è qualche migliaia di chilometri che ci dividono, va bene, sempre nella sanazione, va bene, comunque, questo dialogo è nato appunto da, io ho seguito il suo canale, non assiduamente, gliel'avevo già detto, mea colpa, purtroppo non seguo molto questi canali telematici, però qualora mi fosse venuto in mente di ascoltare qualche lettura un po' più impegnativa, magari anche mentre, mentre per esempio facevo footing, correvo, invece di sentire il reggaeton, volevo sentire un po' di Nietzsche, l'unica persona che mi usciva credibile da ascoltare era Walter Zanardi, quindi diciamo che il mio, il mio rapporto, diciamo emotivo con lei, è un rapporto comunque abbastanza radicale per quanto mi riguarda, non anche se non ci conosciamo, però già sentire una persona che registra, così parlo, Zanard Rusta, cioè per me è già, ho già un rapporto con lui anche se non lo conosco, cioè è già, ho già qualcosa di radicale nei miei confronti, quindi diciamo che la mia conoscenza nei suoi confronti è stata di questo tipo, di tipo telematico, di tipo culturale, poi un giorno ho letto la sua presentazione, la sua rilettura, no? Dei concetti che aveva lei 45 anni prima sottolineato, diciamo, visto più profondamente di Ivan Illich, della Nemesi America e ho ascoltato con pazienza e con, diciamo, anche molta attrazione questo suo video. Poi ho letto che lei voleva, aveva, cioè voleva provare a dialogare con qualcuno, con qualche suo iscritto, con qualcuno che non erano almeno iscritti, per dire, e mi è sembrato... E' chiaro se queste cose erano ancora valide sostanzialmente. Sì, ma anche non parlare solo di quello, no? Lei ha anche aperto a un dialogo più ampio sulla medicina. Noi ci siamo conosciuti perché io le ho scritto lì sul canale, no? Perché ero aperto a questo dialogo, nonostante fossi un pasticcere. Io nasco a un pasticcere, quindi ho sempre voluto... Uno vuole fare l'astronauta, vuole fare il... Lo scienziato, io volevo fare il pasticcere, poi ho cambiato totalmente idea della vita, no? Ho scoperto altre cose, studiare l'università, adesso, insomma. Ho 22 anni, posso ancora permettermelo, non tanto, però posso ancora permettermelo, forse, di cambiare idea. Quindi, le avevo premesso che qualora ci fosse stato un dialogo, forse, doveva essere un dialogo al di fuori di ogni aspetto politico, religioso o ideologico, no? Perché la salute non può stare lì dentro, cioè è qualcosa di molto di più rispetto a quelle altre cose, no? Poniamo rispetto massimo per la politica, per le ideologie, per le religioni, ma la salute è la salute, c'è poco a fare, l'aspetto primario dell'uomo. Comunque, diciamo, quindi, la caratteristica del dialogo era questa e lei ha accettato in maniera molto umilmente, devo dire, questo dialogo con una persona distante da lei, dal punto di vista professionale e dal punto di vista anagrafico. Già, questo è un attettato di stima che devo farle perché è veramente incredibile questa cosa. Comunque, ha accolto due punti molto interessanti nella sua introduzione, no? Cioè, il punto sociale, naturale che abbiamo già discusso, no? Della prevenzione ambientale che ha sul corpo dell'uomo e ha accolto anche un punto tecnico che è un punto che non mi pongo di trattare oggi con la mia poca credibilità di trattarlo per quanto riguarda la sanità. Però, già che lei abbia accolto in quegli anni, cioè gli anni 68, 70, 50 anni fa più o meno, quello è, che abbia accolto il punto tecnico nel senso di, cioè, parliamoci chiaro, in quegli anni si leggeva gente come Marcuse, come Adorno, no? C'è la scuola di Francoforte che è in quella sinistra rivoluzionaria, liberale, c'era quella sinistra, diciamo, che si scontrava col potere, beh, il 68 lo conosciamo tutti, no? Più o meno, quello che è stato, ma lei l'ha vissuto, ovviamente, non lo sa più di me, Però, c'era accolto il punto tecnico, nel senso di formare un apparato sanitario, no? Cioè, una sanità che avesse come obiettivo quella di curare più persone possibili è di prevenire la cura. Per prevenire la cura c'è bisogno di strumenti, no? Strumenti che poi sono nati dopo, come per esempio, ha fatto esempio delle tacte, delle fotografie, ma anche degli strumenti preventivi di cura. Ecco, l'aspetto tecnico, cioè quindi l'aspetto di modificazione sociale e culturale della società per la cura e l'aspetto ambientale sulla cura e sulla prevenzione sono due aspetti per me fondamentali. Quindi, detto più o meno chi sono, cioè chi non sono e chi sono, mi sembrava giusto non parlare oggi di non fare retorica, no? Perché anche lei non pensi a uno di quelli, altrimenti non avrei accettato accettato questo dialogo. Per non fare retorica sulla sanità bisogna tenere fuori per forza aspetti che sono legati alla sanità, no? Legati come l'economia, come la finanza, come la medicina. Purtroppo oggi voglio tenere fuori la medicina dalla mia, anche perché non sono un professionista, no? Questo sta a lei parlare di medicina come ha fatto in maniera grandiosa fino adesso, quindi quello è il suo compito. Io vorrei parlare più che altro dell'importanza che ha la cura nell'uomo, cioè cos'è la sanità? Cioè la sanità come apparato e come strumento per curare l'uomo, cioè significa l'uomo ha da sempre, no? Non voglio fare un discorso né antropologico né biologico, né voglio fare un discorso logico se mi viene, ecco, se riesco. la sanità penso che sia abbastanza percepibile da tutti, no? È la vita e la morte, no? È la cura della vita per evitare la morte, cioè questo penso sia abbastanza percepibile, cioè è lo strumento ultimo che abbiamo per preservare la nostra vita. La scuola è uno strumento per raccrescerci, l'economia è uno strumento per far formare capitale. la sanità è il combattimento fra vita e morte, cioè questo è inquiubile da tutti, penso. Ecco, detto questo, non si può parlare di sanità senza parlare di vita e di morte. Ripeto, lo faccio senza alcun titolo filosofico, senza alcun titolo antropologico, lo faccio perché è questo che bisogna fare per parlare di sanità. quindi se non parliamo di vita e di morte non possiamo parlare di sanità. Distaccare la sanità dalla scienza e dalla tecnica intesa come quella tecnica lì dei suoi anni, come il Marchius della situazione, come il Gunther Anders, come l'Adorno, che parlavano della razionalizzazione estrema di una società, di arrivare ai fini con l'apporto minimo dei mezzi, quel tipo di tecnica che non mi pongo come obiettivo di parlare oggi. Oggi vorrei parlare più che altro della questione scientifica che ha la tecnica sulla sanità, la scienza sulla sanità. Quindi parlare di sanità senza parlare di scienza e di tecnica è impossibile. Cioè faremo retorica pura, parleremo appunto di economia e di finanza ma non ci interessa questo, non penso sia questo il luogo e l'occasione per parlarne. Come ci siamo arrivati alla scienza? Intanto volevo farvi una domanda perché io devo dirle che comunque mi trovo abbastanza in difficoltà a parlare attraverso uno strumento, uno strumento informatico perché avendo 22 anni sono abituato a socializzare, a guardare negli occhi, a vedere le espressioni facciali se non sto dicendo niente di particolare, se mi capisci, se non mi capisci. Quindi mi trovo in difficoltà a guardarla per capire se mi sto spiegando oppure io ho 22 anni cioè devo socializzare quindi sono in difficoltà quindi cercherò comunque di dialogare il più simultaneamente possibile quindi voglio partire con una domanda secondo lei cos'è la paura? Cos'è la paura? No, in che senso mi poni questa domanda? Perché voi allora io penso che la sanità è l'ultimo rimedio che noi abbiamo cioè noi ci rivolgiamo all'apparato sanitario per non morire la voglia perché è cruda 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 cioè bruta com'è per evitare di morire e di avere dolore noi ci andiamo a curare quindi questo è percepibile però per parlare di morte e di vita bisogna parlare di paura e di angoscia sono due cose diverse secondo lei cos'è la paura? la paura è il timore che abbiamo di un pericolo che riusciamo a vedere e intravedere e contro la quale possiamo mettere in atto degli strumenti per difendersi e l'angoscia ovviamente invece è un pericolo che noi percepiamo ma che non riusciamo a individuare cioè di cui non abbiamo di fronte il nemico e quindi non sappiamo come difenderci perché se non abbiamo un nemico davanti non sappiamo come difendersi però se riferiamo queste cose questi due termini alla morte è quella che può essere la paura della morte e qui c'è una valenza culturale molto importante cioè la percezione della vita e della morte e anche l'affrontare la morte è una cosa che è cambiata molto culturalmente ovviamente la morte da fenomeno naturale come sempre accettata come accettavamo che ci fosse una grande mortalità infantile perché ci si rassegnava si facevano anche tanti figli perché si sapeva che alcuni non sarebbero diventati adulti pensa a famiglie che c'erano una volta dove la mortalità infantile era un fatto che bene o male è accettato così come si accettava la morte naturale e la morte era anche una cosa come dire vissuta vissuta come un appunto come un fenomeno naturale si si preparava alla morte nel senso che come dire intanto si moriva in casa quando non si moriva in guerra quando non si moriva ma la morte era un qualcosa per cui il moribondo chiamava intorno a sé i figli e gli lasciava diciamo l'eredità gli lasciava decideva cosa succedeva del mondo intorno a lui era un saluto ed era una cosa fatta partecipata in casa e quindi accettata insomma accettata come un fatto naturale non era una cosa che angosciava più di tanto la cosa che è interessante capire è che è cambiata cioè se io adesso mi devo immaginare la mia morte mi immaginerei di il desiderio insomma di come morire no avrei due desideri quello di non soffrire prima di morire e quindi e di non sapere che sto per morire nel senso di morire nel sonno no senza immaginarmi quindi diciamo se devo dire come la penso io dico che una bella morte sarebbe una morte nel sonno senza preceduta senza malattia prima no quindi l'infarto bell'infarto che ti viene nel sonno tu non sai e vai a letto e poi non ti svegli più questo potrebbe per me essere una morte desiderabile no questo tipo di morte era invece o di idea della morte una morte che angosciava semplicemente qualche secolo fa no perché è guai morire senza senza preparazione e senza aver dato le ultime consegne e senza avere in qualche modo in una cultura in cui Dio faceva mondo senza esserti messo a posto con l'anima con lo spirito senza avere quindi insomma la percezione l'atteggiamento culturale è cambiato molto e soprattutto adesso non si muore più a casa l'ambiente non è più in grado di accogliere il moribondo si muore in ospedale la morte è diventata un qualcosa di non più accettato insomma di rimosso e quindi si va in ospedale a morire no così non era una volta si andava si stava in casa quando c'era la casa insomma no l'ospedale era un luogo di morte soprattutto per quelli che erano diciamo non so che non avevano un'ambienza c'erano dei luoghi dove la gente andava a morire ma erano quelle persone che erano più diciamo contagiosa nei periodi di peste nei periodi di lazzaretti insomma queste cose qua però diciamo nell'ambiente contadino la persona moriva in casa si accettava la morte si davano le consegne e ci si salvava si metteva a posto con l'anima perché si sapeva che insomma che poi c'era un'aspettativa per l'aldilà e questa aspettativa era radicata nella cultura adesso non abbiamo più questa aspettativa per l'aldilà diciamo che che la nostra società è diventata molto più materiale molto più laica e non ci interessa più l'aldilà insomma ci interessa eliminare quest'idea della morte perché pensiamo che la vita sia un qualcosa che in realtà dura in eterno che che noi possiamo godere insomma della vita il più possibile che abbiamo degli strumenti per per godere a lungo di questa di questa vita no mi è rimasto impresso per esempio non so un'intervista di un che è stata fatta a Piazza Pulita poche settimane fa di un tipo no che andava non so che andava in macchina a 200 all'ora che si faceva le foto su tutto tatuato che si faceva e si faceva vedere che si faceva il testosterone che si faceva queste cose qua no che era molto come dire aveva scoperto che con Instagram faceva i soldi perché metteva le sue foto di cose trasgressive che faceva forse l'hai visto non so come si chiama il quale diceva si lo so che il testosterone fa male ma insomma tanto c'è sempre la cura voglio dire c'è sempre l'antagonista che poi rimedia i danni che mi faccio ecco adesso abbiamo mi è rimasto impresso perché questa poi l'ideologia possiamo fare qualsiasi cosa ma tanto c'è sempre una soluzione no terapeutica tecnologica la medicina insomma ci mette a disposizione sempre qualcosa per rimediare ai danni che ci facciamo in realtà era importante che lei diciamo spiegasse diciamo aprisse alla alla differenza tra paura e angoscia perché se parliamo di morte e di vita non possiamo parlare di paura perché come ha detto lei la paura abbiamo paura di ciò che conosciamo ciò che conosciamo l'effetto se ho paura di una tigre che mi sta per attaccare perché io so quale effetto avrà l'attacco della tigre cioè qui c'è anche il principio di casualità della logica comunque la paura è quando io so l'effetto che ha la cosa vedo il nemico davanti è il preletto anche il problema ma io posso anche attraverso l'apparato logico e coscienzioso posso trovare gli strumenti per affrontare il nemico mentre l'angoscia anche dal punto di vista psicoanalitico dal punto di vista psicoterapeuta è quella cosa di cui non conosco l'effetto non conoscendo l'effetto io non posso mettere in atto lo strumento per combatterlo quindi è qualcosa di molto più radicale la paura dell'angoscia e noi quindi non abbiamo paura di morire noi siamo angosciati dalla morte perché appunto va bene tutti i filosofi gli scienziati ma nessuno ha detto ancora che c'è dopo la morte ma non penso che nessuno ma ce lo dirà a meno che io non credo in Dio non sono religioso quindi non credo nell'aldilà eccetera eccetera quindi io ancora sono sempre più angosciato dalla morte anche avendo 22 anni tutti siamo angosciati dalla morte anche se crediamo in Dio siamo angosciati dalla morte perché appunto è quella cosa che noi non conosciamo perciò non possiamo mettere in atto gli strumenti per combatterlo lo strumento per combatterlo siamo angosciati dalla morte secondo te cioè non è un fatto culturale questo anche io penso antichi in qualche modo non esprimono angoscia per la morte no esprimono la necessità di capirla di metterla nei termini della vita non puoi pensare alla vita senza pensare alla morte non c'è vita se non c'è morte quindi la morte è una necessità perché abbiamo trasformato questa necessità tra l'altro ti garantisco che invecchiando uno c'è anche una bella commedia no cioè le ultime lune di Furio Bordone l'ultima commedia che ha recitato Mastroiani prima di morire in cui come dire a un certo punto uno ha già avuto tanta vita no e in qualche modo si stanca anche della vita nel senso che l'ha usata si vede che come dire le sue potenzialità man mano diminuiscono quindi insomma la morte è anche un modo di di finire un un percorso insomma no hai fatto il tuo percorso man mano che invecchi ti rendi conto se meno io mi ricordo che quando ero bambino e pensavo alla morte mi si stringeva qualcosa qui no adesso sono adulto dove la vedi come qualcosa che adulto sono vecchio ma la vedi come qualcosa di ecco insomma non mi si stringe più cioè voglio dire mi è più facile pensare che come dire che magari ci sarà una continuità perché ho dei figli perché insomma di mettere a posto alcune cose insomma no di passare un'eredità no e che che non è solo un'eredità economica insomma no è anche un'eredità di di idee di come dire di sapere che hai fatto delle cose nella vita di sapere che queste cose in qualche modo continueranno che altri tuoi eredi continueranno delle cose che hai dato anche delle degli stimoli del no degli impulsi che gli sei stato dopodiché tu è anche la visione di una certa pace insomma no a un certo punto perché insomma quando le tue giornate diventano poi uguali non non vedi più cioè i tuoi i desideri diminuiscono insomma no di novità di esplorazione del mondo così perché poi il tuo mondo quando invecchi il tuo mondo si restringe un po' alla volta prima si allarga quando tu cresci no diciamo immagini questo raggio che si allarga il mondo diventa il tuo spazio ma poi si restringe allora perché pensare con angoscia alla morte cioè è la conclusione insomma no semmai quello che angoscia è che non sappiamo quanto soffriremo per morire no quello fa parte della vita penso no cioè non fa parte più della morte cioè l'angoscia per la sofferenza fa parte ancora del periodo vitale cioè io sono d'accordo con lei sul fatto nonostante ho vent'anni sono d'accordo sul fatto che la morte è necessaria cioè è una necessità che fa parte della questione vitale cioè è necessaria la morte c'è poco da fare tant'è che non so se Severino penso lo conosca il filosofo Manolo Severino abbia letto qualcosa è venuto anche a fare una conferenza qui da noi lui dice anche di persone sono senti che gli uomini sono dei re che si credono di essere dei mendicanti no cioè che l'uomo è un re nel senso che è l'apparire eterno del destino è l'apparire dell'eternità nel suo corpo nella sua coscienza nel suo vivere è l'apparire eterno mentre noi noi uomini siamo dei mendicanti perché pensiamo di non essere eterni e abbiamo quell'angoscia verso la morte no io sono d'accordo con lei che la morte è necessaria ma purtroppo l'uomo non la pensa la società l'uomo non la pensa oggi così ma oggi perché appunto abbiamo quella mentalità scientifica di vedere la natura cioè il rapporto fra uomo e natura cioè la natura è intesa come prima era intesa come qualcosa di immodificabile a cui portare del rispetto cioè esco da tutte quelle cose ecologiche ambientali voglio uscire da quella roba lì sto parlando di altre cose l'uomo appena ha sviluppato un po' di ragione ha cominciato a produrre miti anche i miti greci i miti cretesi appunto per dare un senso alla vita cioè io intendo vita e morte come annullamento ed essere come la morte come annullamento è un qualcosa di angoscioso appunto che non conosciamo come combatterlo la vita come essere appunto come diceva lei non è sempre stata qualcosa di angoscioso la morte gli antichi non l'hanno vista sempre come così angoscioso tant'è che i greci appunto hanno sviluppato l'apparato mitico per dare un senso alla vita infatti attraverso il mito ovviamente sempre l'uomo ha creato il mito perché ovviamente uno parla di mito sembra che gli dei zeus ma sempre l'uomo ha creato il mito per dare un senso alla vita e per dare questo senso alla vita lo dà perché vuole avere lo strumento per prevedere per prevedere le azioni angosciose cioè fino a prima magari l'uomo si vedeva la natura come qualcosa di modificabile no? Noi non pensiamo a noi oggi pensiamo anche appena usciamo noi da nostra madre appena nasciamo no? Vediamo quell'apparato naturale che ci viene addosso anche le persone l'aria appena apriamo gli occhi non sappiamo non abbiamo l'apparato logico per capire come tra sé è trasformabile qualquello che ci avviene addosso se non è trasformabile è una violenza che noi facciamo all'ambiente non è anche solo il fatto di respirare è una questione violenta cioè di di aprirsi all'ambiente cioè noi respiriamo cioè se noi respiriamo e allarghiamo il nostro il nostro petto lo facciamo perché sappiamo che c'è qualcosa di violentabile no? Qualcosa che è aperta alla violenza che facciamo noi cioè qualcosa che si può penetrare ok? Quindi l'ambiente da quando nasciamo lo pensiamo a qualcosa di di violentabile sono crudo nei termini non so forse sono troppo crudo come qualcosa che che riesce che si apre alla nostra alla nostra natura quindi hanno sviluppato i gregi questi miti per combattere l'angoscia no? Però i miti non sono sempre stati quello strumento necessario per combattere l'angoscia parliamo di morte no? Arrivo alla parte scientifica che oggi fa parte della sanità e tutto quello che stiamo dicendo ovviamente è legato alla sanità alla vita e alla morte quindi i gregi hanno appunto i gregi i gretesi hanno sviluppato questi miti che gli davano gli strumenti per prevedere le cose future per esempio un mito un mito che è anche una tragedia bellissima che è quella di prometeo no? In cui prometeo appunto la faccio breve ruba il fuoco a Zeus per darlo agli uomini cioè già questa cosa è fondamentale perché dà agli uomini la capacità di trasformare il mondo cioè la capacità di modificare le cose naturali cioè quindi introdurre tecniche dai vabbè non vuoi parlare di tecnica ci vuole un mese di conferenze no? Cerco di essere più non voglio allargarmi a cose troppo che poi distaccano dalla sanità quindi sto cercando di stare sulla sanità dando questa questa tecnica questo fuoco questa capacità di trasformare la natura all'uomo prometeo viene incatenato alla viene incatenato e l'aquila c'è un'aquila che ogni giorno gli va a rimangiare il fegato il fegato si ricostruisce insomma è una è un perpetuare di questa di questo dolore ok ma la cosa fondamentale che ci dice il mito che i dei hanno inventato questo mito per farsi dire dal mito è che prometto era incatenato da delle catene cioè delle catene che per queste catene per riuscire a a fabbricarle a farle c'è bisogno del fuoco quindi la cosa fondamentale che si vogliono sentire dire i greci da quegli dei che sono inventati e sentirsi dire che va bene che tu vuoi vuoi distruggere vuoi trasformare quello che c'è intorno a te no? vuoi annullare quello che c'è intorno a te vuoi che sia tuo per farlo per renderlo vitale alla tua diciamo alla tua conoscenza però attenzione dice il mito che sono creati attenzione perché quel tuo fuoco che hai rubato agli dei cioè quel tuo strumento che hai preso alla natura ti potrà di un'oltre ti potrà legare cioè quel tuo fuoco quella tua violenza che hai fatto alla natura quel tuo voler cambiare l'andamento naturale delle cose ti può imprigionare quindi gli dei praticamente ti stanno dicendo che non puoi prendere la natura e farne quello che vuoi cioè quindi il mito che sono creati gli dà lo strumento gli dà il limite ecco perché il senso greco è il senso del limite no? per eccellenza dice devi avere un limite perché se non hai un limite naturale la necessità ti inchioda e la necessità che ti inchioda è la costa una domanda ma l'impressione è che la diciamo la medicina intende senso ampio insomma no? la tecnica abbia superato questo limite al giorno d'oggi cioè ci sia un un peccato di ibris nella nella tecnologia medica cioè nella nella volontà dell'uomo attraverso la la scienza che poi insomma è applicata alla medicina insomma no? di superare un limite che non dovrebbe superare e dove lo abbia superato questo è un problema fondamentale perché appunto si è partito col mito si è partito con sviluppare un apparato mitologico per prevedere le cose ma a un certo punto arrivo arrivo alla risposta alla domanda che mi fa a un certo punto però questi miti non sono più stati sufficienti all'uomo per combattere l'angoscia cioè a un certo punto l'uomo ha visto nel mito come qualcosa di immaginario perché poniamo sempre che il mito è una costruzione umana no? che non non presupponeva una verità cioè si è reso conto l'uomo che non aveva più bisogno di qualcosa da immaginare per combattere il dolore l'angoscia no? tutto quello che presupponeva la morte è il dolore e quindi a un certo punto non voglio fare un discorso storico è nata quella che si chiama filosofia no? prometto arrivo lì la filosofia appunto cioè etimologicamente la filosofia anche sbagliato dirlo no? è l'amore per il sapere ma è molto di più che l'amore per il sapere la filosofia e quindi più che costruirsi un apparato immaginario per combattere l'angoscia l'uomo ha voluto conoscere e qui arriva il punto fondamentale ha voluto conoscere ciò che lo circondava per poter modificarlo cioè ha capito l'uomo che se io voglio modificare ciò che mi sta intorno devo conoscerlo senza la conoscenza di quello che mi sta intorno io non posso modificarlo e qui arriva l'atteggiamento scientifico è importante perché l'atteggiamento scientifico l'atteggiamento contemporaneo quello che lei diceva oggi se c'è ancora il senso del limite che c'era prima nasce appunto dall'atteggiamento filosofico che dice tu vuoi vuoi vivere bene vuoi capire quello che ti circonda e devi per forza conoscerlo quindi se tu lo conosci puoi modificarlo e qui c'è l'aspetto nichilista di tutta la società occidentale dell'annullamento di tutte le cose dell'ammientamento del senso del limite cioè qui proprio cade il senso del limite attraverso l'atteggiamento filosofico della civiltà occidentale lasciamo stare i primi che sono parmeide quei ontologici mettiamolo così proprio l'atteggiamento platonico aristotelico dell'atteggiamento naturale per esempio Aristotele dice che la filosofia nasce dal sauma dal sauma che è tradotta come meraviglia ma è tantissimo altro che meraviglia il sauma il sauma è sauma trauma cerchiamo di capire come paura come angoscia quindi questo atteggiamento filosofico inteso come atteggiamento di conoscenza dell'ambiente che ci circonda è un atteggiamento che deriva dalla sauma cioè dall'angoscia e dalla paura che noi abbiamo quindi erano partiti col mito quindi questo questo apparato immaginario che l'uomo si crea per dare un senso alle cose ma l'uomo a un certo punto ha capito che il senso delle cose non poteva darglielo solo attraverso l'immaginazione ma doveva conoscere quello che oggi portava adesso dalla filosofia alla scienza è un attimo cioè perché purtroppo è stata così più si è andato avanti più quel senso del limite l'abbiamo perso perché appunto anche se nella filosofia c'era ancora un po' di rispetto di atteggiamento e senso del limite rispetto alle cose che circondavano che comunque era solamente un conoscere la filosofia non era un modificare ma la scienza invece che atteggiamento ha la prima scienza cioè la prima scienza quella che ha avuto origine dalla prima filosofia è una scienza che elabora delle teorie attraverso la conoscenza dell'ambiente cioè l'albero cresce in un mese ad esempio quindi io elaboro la teoria che l'albero in un mese è cresciuto ok quindi do delle delle teorie dal punto di vista dell'andamento naturale delle cose mentre la seconda scienza guarda diciamo settecento centesca no che ha avuto di base una filosofia molto più più nichilista più radicale vediamo Nietzsche ma anche lo stesso Comte il positivismo Comteano che regge dei tre stati che dice che l'uomo è stato prima teologico poi metafisico e poi fisico cioè che distrugge tutta la teologia e la metafisica Nietzsche ma anche gente come Leopardi per dire no cioè nichilisti pesanti che annullano il senso del limite ecco quella scienza dell'ottocento non è più quella scienza che elabora delle teorie osservando l'andamento naturale delle cose ma che per elaborare teorie c'è un rumore ma il mio no no è quella è quella scienza che diciamo non elabora teorie attraverso l'andamento naturale delle cose ma modificando l'ambiente cioè conoscendo il rapporto tra i fatti che avvengono nell'ambiente quindi modifica l'ambiente cioè prima di osservarlo lo modifica se le sue modificazioni hanno prodotto delle leggi quelle leggi che sono le modificazioni che lui ha siamo lì va bene la genomica va bene il DNA va bene la genetica ma siamo come atteggiamento siamo lì quindi se prima la scienza che nasceva dalla prima filosofia ontologica era la scienza che diceva tu di natura ti comporti così queste sono le tue leggi invece la scienza di oggi la seconda scienza è una scienza che modificando la natura se quelle modificazioni che lui ha portato sono scrivibili come leggi le leggi della natura sono le leggi delle modificazioni dell'uomo sulla natura quindi quel senso del limite di cui parlavamo prima è scomparso perché c'è appunto c'è gente come c'è tanta gente come Nietzsche per esempio così parlò Zaratrusta o nella Gaia Scienza così parlò Zaratrusta c'è quel capitolo delle tre metamorfosi per dire che è spiazzante c'è ti dice che c'è bisogno della distruzione totale dei valori di quel drago che il leone combatte poi diventa fanciullo insomma non voglio raccontare così per lo Zaratrusta per dire che c'è stata gente comunque filosofi di filosofi in quel periodo che gli hanno aperto la strada alla scienza come distruzione di ogni limite naturale il super uomo contro l'ultimo uomo contro la bestia quindi la filosofia il mito la scienza sono tutte legate tra loro e non possiamo pensare che la scienza non sia legata alla sanità è impensabile quindi se parliamo di sanità non possiamo parlare di scienza e se parliamo di scienza non possiamo parlare di questa roba qui appunto come diceva lei l'annientamento del senso di ogni limite ma questo annientamento del senso di ogni limite va verso l'atteggiamento tecnico che non è oggi il luogo per parlare perché andremo troppo lontani dalla sanità quindi se devo risponderle no oggi non abbiamo più limiti perché la scienza non ci ha più limiti quindi pensare sempre alla scienza come Comte che la chiama positivismo che la chiama atteggiamento scientifico come positivismo anche lui ha fatto in quel periodo gli ha aperto la strada all'annientamento dei limiti quindi pensare che la scienza sia qualcosa di assolutamente positivo perché appunto migliora le condizioni dell'uomo perché combatte la morte va bene la scienza attraverso la medicina attraverso la ricerca attraverso l'applicazione della medicina e della ricerca nell'apparato sanitario può combattere la morte ma se noi intendiamo la morte solo come corpo non è che possiamo intendere la morte solo come corpo se intendiamo la morte solo come corpo va bene la scienza è tutta positiva ci siamo ma se intendiamo la morte come qualcosa di più radicale come necessità e come senso del limite e se riusciamo a percepire la morte come senso del limite e come necessaria riusciamo a percepire la morte come eternità come diceva Severino riusciremo a capire che noi siamo veramente dei re non siamo dei mendicanti che ci annulliamo solo quando gli diamo gli occhi siamo qualcosa di estremamente di più quindi la scienza distrutta i limiti la tecnica abbinata alla scienza praticamente gli ha detto alla scienza quello che ti pare perché i limiti non ce li hai più i filosofi hanno fatto qualcosa ancora più radicale della tecnica perché se la filosofia prima era qualcosa che fermava la scienza insieme ovviamente all'etica alle religioni al cristianesimo era qualcosa che diceva fermati perché c'hai un limite su cui non puoi non puoi più andare perché il limite è adorare delle cose alcuni filosofi gli hanno detto guarda puoi fare quello che vuoi Nietzsche Comte quindi la scienza oggi fa quello che vuole perché ha avuto l'apparato culturale teologico ed etico che gli ha detto fai quello che ti pare e non ha più limiti e la risposta alla domanda se oggi c'è il limite non c'è più limite nella scienza non c'è mai stato solo nella prima scienza che aveva ancora un apparato teologico importante dietro i limiti diciamo cristiani della società e quali sono i limiti che tu porresti cioè quali sono le cose invalicabili oltre i quali non dovrebbe avventurarsi la conoscenza medica e poi la conoscenza applicata della medicina insomma dove i territori dove non si potrebbe mettere piede insomma li vedi cioè c'è qualche che c'è un ci sono dei territori proibiti insomma dove non non ci si dovrebbe avventurare parlare di territori proibiti sarebbe parlare di teologia e di ideologie cioè mi spiego se io do un limite a qualcosa lo do perché credo che ci sia qualcosa che mi mi ponga questo limite ok l'uomo oggi non ha non ha io sono un uomo di oggi io va bene che sto parlando così ma sono comunque un uomo che vive oggi tornare indietro non ha senso non si può tornare indietro nella storia logica coscienziosa delle persone dell'uomo non si può quindi se io dessi adesso un limite per esempio se io ponessi come limite la manipolazione genetica dell'uomo cioè no tu scienziato non puoi manipolare geneticamente l'uomo perché io ti dico che voglio preservare l'andamento naturale delle cose ok quindi la necessità naturale la nanc che chiama prometeo dice la tecnica è decisamente più debole della necessità della natura comunque se io pongo questo limite mi sto ponendo sempre in quel campo che ha in sé delle ideologie e delle teologie cioè che si rifà sempre a a qualcosa di vecchio cioè di passato se io adesso parlo di limiti sono fuori dal contesto contemporaneo e se parlassi di limiti gli scienziati i medici i tecnici tutti anche gli insegnanti perché tutto quello che li circonda mi prenderebbe come pazzo no quindi piuttosto che come diciamo piuttosto che porre un limite all'atteggiamento tecnico scientifico della società io penso che sia necessario che tutti tutti come rimedio ci rendessimo conto del mondo in cui viviamo cioè il rimedio non è rimediare all'annullamento del limite perché il limite che è stato annullato che non c'è più quel limite non si può ripristinare quel limite se si potrà ripristinare si ripristinerà attraverso la necessità cioè attraverso l'andamento naturale delle cose quindi già non porre il limite a qualcosa di illimitato è un atteggiamento che va contro natura cioè se io pongo qualcosa se io pongo una una frizione una frizione a qualcosa che sta andando sto sto già ponendo un limite cioè se io non pongo limiti ai limiti sto ponendo un limite all'atteggiamento naturale perché è tutto atteggiamento naturale delle cose è la necessità che guida tutto quindi non è un discorso spirituale per carità non è non è quello che voglio dire quindi la necessarietà del nostro tempo non è abbiamo detto porre limiti all'illimitato ma è renderci conto che stiamo andando verso il limitato se noi ci rendiamo conto che stiamo andando verso l'illimitato è già un passo avanti nel porre limiti quindi non si possono porre limiti se questa è la domanda poi se lei mi dice ci sarà nel futuro prossimo nel futuro più lontano un ritorno al limite cioè al senso del limite quindi al vivere serenamente la morte io non voglio fare il pago cioè non è quello il mio però secondo me e qui mi lego a Severino ancora perché Severino è non l'ho mai conosciuto Severino anche perché ho avuto altre altre ovvio cioè ho fatto il pasticcere quindi ho avuto altri altri interessi però penso che Severino sia uno dei maggiori filosofi del Novecento e non solo cioè per me è il maggiore filosofo del Novecento e non solo Severino dice anche qui che si va sempre di più verso lui lo chiama il paradiso della tecnica cioè adesso è difficile spiegarlo perché non abbiamo parlato di tecnica quindi parlare di paradiso della tecnica è difficile però verso l'annullamento totale dei limiti verso l'atteggiamento naturale delle cose ma prima o poi si ritornerà all'atteggiamento originale dell'uomo cioè se noi arriviamo al paradiso della tecnica vuol dire che arriveremo a quello stadio della nostra esistenza in cui tutte le cose saranno no cioè noi avremo tutte le cure per tutte le cose avremo l'uguaglianza avremo il comunismo per dire ugualitario avremo la vita piana tutti saranno uguali tutti saranno in salute ma gli mancherà all'uomo quell'atteggiamento originario che è stato quello di rispetto verso la morte è quello che i greci chiamavano episteme cioè l'episteme è qualcosa che epi che al di sopra è più dire al di sopra per esempio in botanica c'è la parte epigea della pianta e la parte ipogea cioè la parte ipogea è quella che sta sotto la parte epigea è quella che sta sopra l'episteme greco epi vuol dire restare sopra stemme vuol dire restare qualcosa di radicale perché dice che c'è qualcosa che noi non conosciamo e che dovremmo conoscere che sta al di sopra di qualsiasi altra cosa che si chiama alepeia no verità che sarebbe la verità greca noi con l'atteggiamento scientifico tecnico scientifico che andremmo sempre più sviluppando perché purtroppo cosa era così cioè lo sviluppo del nostro tempo è sempre uno sviluppo verso il paradiso tecnico scientifico ma questo paradiso tecnico scientifico toglierà di mezzo sempre la scoperta della verità assoluta perché la scienza è qualcosa che distrugge la verità la verità intesa come quella cosa che è immodificabile cioè quella cosa che sta in chi da sola è episteme il destino chiamano così destino episteme sempre qualcosa che sta di sopra che è inamovibile quindi se noi andremo sempre verso verso il paradiso della tecnica verso una società tecnica scientifica che ovviamente risolverà tutti i problemi sociali ovviamente no ripeto uguaglianza salute ma che avrà sempre un limite perché non è riuscita a cogliere la verità delle cose perché parlare di scienza è parlare di e non parlare di verità perché la scienza distrugge la verità non ha una verità la scienza cioè la scienza va per come dicevamo prima per prove se quelle prove che lei fa sono applicabili alla natura quelle sono le nuove leggi che ha la natura le leggi che ho dato io quindi la scienza distrugge la verità cioè va per tentativi quindi se andremo verso la società che distruggerà la verità arriveremo appunto al paradiso tecnico in cui tutti staremo bene ma che si farà avanti di nuovo il principio originario dell'uomo che era quello di riconoscere la verità cioè di vivere bene perché conosce la verità sei sicuro che in un paradiso tecnico tutti staremo bene? io non starei bene cioè tutti staremo bene nel senso che staremo bene dal punto di vista dicevo sociale perché tutti potremmo avere i ruoli che vogliamo dal punto di vista economico perché si troverà il modo di avere un'economia piana perché si troverà il modo di curare tutto ovviamente sempre in quei limiti naturali che ci siamo posti perché sei sicuro che queste promesse possono essere realizzabili io non penso io non penso che ci sarà un mondo di uguali che ci sarà un mondo di persone che vivono senza desideri perché il desiderio fa parte della natura umana e quindi togliere i desideri togliere l'aspirazione perché tutto già si ha farà sì che si vivrà pezzo non che si vivrà meglio insomma togliere la dimensione della morte dalla come dire noi siamo continuamente come dire il confronto con la morte dà senso alla nostra vita tutti i giorni quindi se noi togliamo questa necessità del confronto con la morte come misura della vita difficilmente staremo vivremo una vita migliore quindi io temo che le promesse della scienza perlomeno di quelle che sono delle aspirazioni insomma adesso le quali si va con tutte le tecnologie di adesso la comunicazione assoluta le nanotecnologie tutto questo in realtà non soddisferà delle aspirazioni ma che sono delle false aspirazioni poi in realtà ci porterà a vivere peggio insomma ma cose banali adesso se tu fai un numero di telefono per cercare assistenza non so alle poste da qualsiasi parte ti risponde un'intelligenza artificiale e tu non puoi parlare con questa artificiale perché se hai un problema non te lo capisci e tu diventi matto ogni volta mentre quando c'era una persona semplicemente che ti rispondeva magari ti stava simpatica antipatica ma spesso riusciva a spiegare il tuo problema e ti dava un aiuto adesso ti senti completamente distaccato da tutto anche anche semplicemente quando vai a fare ticket c'è la macchina insomma voglio dire vivi peggio cioè non vivi meglio ecco insomma quindi quindi queste promesse insomma no del di quello che è il mondo della tecnica diciamo parlare solo di medicina diciamo parlare del mondo della tecnica in generale insomma no rischiano di essere come dire delle false promesse perché non ci faranno io penso sai ma è una mia impressione ma sono d'accordo è un bescoce è proprio così cioè sono d'accordo proprio e poi volevo riportarti invece al presente insomma cosa secondo te che figura si sta facendo il mondo diciamo scientifico adesso in un momento di pandemia per esempio adesso che impressione hai avuto di quello che come dire di quello che sta facendo il mondo della scienza dal comitato tecnico scientifico a tutti i vari a tutti i vari esperti che intervengono insomma no cioè qual è il loro ruolo cioè cosa cosa stanno facendo sono utili e dove sono utili quando sono utili e quando invece in realtà rischiano quando si contraddicono e quando non si contraddicono insomma perché qui poi c'è il confronto no cioè di fronte a una situazione reale che richiede come dire che richiede anche un po' uno sconvolgimento dei tempi e dei ritmi no cioè non è non stiamo sul ritmo che si che si propone la ricerca no la quale può andare per conto suo ma una sua progressione qua è successo un fatto in cui tante cose hanno dovuto modificarsi anche a livello della ricerca no pensiamo al fatto che ci volevano 8-10 anni per fare un vaccino e che adesso lo si fa in un anno no e questo poi ci sconvolge anche un po' no nel senso che ecco che che intenzione ha insomma della della tecnica applicata alla scienza in questo caso alla medicina e anche delle posizioni della tecnica no perché come dire pensa anche semplicemente al ruolo delle rianimazioni no in realtà adesso si chiamano terapia intensiva insomma una volta le chiamavamo di animazione insomma ma anche le terapie intensive no in realtà si muore in terapia intensiva no si muore parecchio e le cure a disposizione cioè tutto sembra legato alla disponibilità di posti in terapia intensiva no il che è anche una cosa importante però insomma quasi la metà delle persone che hanno terapia intensiva ci va per morire quindi insomma sarebbe meglio non andarsi in terapia intensiva no sarebbe meglio che ci preoccuparsi di non andare in terapia intensiva piuttosto che di avere terapie intensive nelle quali poi si muore anche se sono importanti ma anche nella terapia intensiva poi nonostante tutti quelli che sono stati i progressi degli ultimi anni poi i farmaci che sono risultati importanti insomma che si possono usare sono farmaci vecchi no la calceparina il decadron il cortisone insomma il desametazone e l'ossideno sono farmaci che si usavano anche quando ho cominciato a lavorare io insomma no quindi i farmaci più moderni insomma no anche gli antivirali che sono stati provati e così via gli altri farmaci si sono dimostrati inefficaci no ecco c'è sempre qualcuno che non posso togliere l'audio perché se no 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 quindi insomma cosa penso io di questa figura il fatto di spostare l'attenzione più sulle terapie intensive sulla quantità di cose invece che sulla come dire che su sulla prevenzione vera insomma nel senso che l'unica cosa che funziona in queste cose qua o che può funzionare è la prevenzione no cosa penso io qual è la domanda cosa penso di questa qual è la figura che ci sta facendo in questo momento insomma e anche qual è il potere no perché vediamo che anche quello che viene detto come dire si fanno delle scelte ci sono degli scienziati che vengono ascoltati e degli altri che invece vengono tagliati fuori anche dalla comunicazione no perché magari quello che dice quello che dicono è scomodo salvo poi vedere che che si commettono degli errori a non ascoltarli allora intanto mi ricollego alla questione di prima nel senso che io sono d'accordo è apparente anche per me il paradiso tecnico è un paradiso apparente cioè non è un paradiso tant'è che ci sarà l'uomo che vorrà ritornare alla necessità piuttosto che all'apparenza quindi è tutto apparente quella quell'uguaglianza quell'uguaglianza economica quell'uguaglianza etica è tutto apparente comunque torno al discorso degli scienziati la domanda sua è la domanda principale è che figura sta facendo la scienza in questa sua contraddizione giusto? quella è la domanda adesso insomma in questo fase nella sua contraddizione perché ovviamente anche giornalmente vediamo che uno scienziato dice una cosa e la scienza dice un'altra cosa comunque la scienza sta facendo la figura della scienza cioè perché la scienza è questo non possiamo pensare di avere l'episteme la verità da qualcosa che la distrugge cioè quindi gli scienziati stanno facendo la figura degli scienziati cioè di quella categoria di quella categoria immensa immensamente importante per il nostro tempo che ha deciso nella sua storia di togliere di mezzo una verità assoluta se tu togli di mezzo una verità assoluta non la fai a ricercare e vuoi dare la tua verità alle leggi naturali perché il virus è una legge naturale non fa parte della natura parliamo del virus per dire è qualcosa che è un microorganismo è uno dei più piccoli microorganismi che diciamo ha solo l'apparato geneal insomma è una cosa naturale no? il virus quindi se la scienza si è posta di distruggere una verità assoluta per dare lei la verità alle leggi naturali non ci possiamo aspettare che la scienza sia sempre d'accordo cioè non possiamo aspettare che gli scienziati siano d'accordo tra loro perché l'accordo c'è solo quando c'è una verità senza la verità non ci può essere un accordo cioè la scienza va per tentativi quindi se io faccio un tentativo e la mia legge è valida faccio un paio di nomi se io ho crisanti faccio un tentativo nel mio laboratorio di biologia faccio un tentativo culturale su quel virus ok? io sono ignorante non capisco di questo quindi se uso termini strani mi fermi perché non sono un medico o un microbiologo comunque se io sperimento do una legge a quella categoria del virus per trarre delle conclusioni utili alla cura di quella malattia avrò una legge mia che applicherò al virus ma un altro scienziato può applicare può lui con la sua volontà applicare un'altra legge allo stesso virus il virus corrisponde alla stessa legge e lui dice che quella legge è la legge del virus ci saranno cento leggi del virus che produrranno effetti diversi ma sempre utili alla sua cura quindi se gli scienziati se lei mi chiede gli scienziati che figura stanno facendo stanno facendo la figura degli scienziati cioè una figura scientifica per cui non c'è verità assoluta c'è solo l'opinione perché l'opinione è alla base della scienza allora giriamo il problema supponiamo che ti trovassi tu scienziato a dover affrontare un problema di questo tipo no pandemia cosa faresti mettiamola su in pratica insomma cosa faresti studieresti il comportamento del virus o no e studiare il comportamento del virus vuol dire applicare o cercare una legge tua o cercare una legge universale di come si comporta questo virus in termini diciamo in termini di comportamento biologico insomma cioè di capire come cioè non è importante prima di tutto capire come diciamo l'identità di questo virus cosa fa come lo fa come si riproduce come cosa avviene e questo capire cosa succede rispetto a questo virus in particolare significa creare una legge propria oppure significa cercare di scoprire una legge di natura cioè di quella particolare entità della natura che è in questo caso il virus insomma premesso che non sarei mai uno scienziato non vorrei mai essere uno scienziato perché amo abbastanza la verità assoluta quindi non potrei mai essere uno scienziato lo scienziato non poniamo il caso che sia uno scienziato sono scienziato devo relazionarmi col virus devo relazionarmi con la cura del virus non posso trovare una una legge universale ritornando al discorso iniziale quando tu poni il problema di paura e angoscia allora il problema primo è quello di trasformare l'angoscia in paura e l'angoscia vuol dire la paura vuol dire avere degli strumenti per affrontare il nemico cioè capire il nemico che hai davanti e quindi di trovare degli strumenti per affrontarlo quindi questo è quello che sta che dovrebbe fare o che sta facendo anche una parte per lo meno della scienza quello di capire bene l'entità che ha davanti e di trasformare l'angoscia rispetto a qualcosa che non si conosce e da cui possiamo aspettarsi di tutto diciamo in paura nel senso che dobbiamo avere il giusto timore per qualcosa che ci minazza ma nello stesso tempo dobbiamo conoscerlo bene come avversario e poter mettere in atto le strategie per contrastare questo avversario insomma quindi gli studi che si fanno rispetto a questo virus che è un'entità nuova sono quelle di cercare di identificarlo come avversario come nemico di averlo chiaro questo mi pare che sia una cosa positiva da fare o no per me è positivo sì è apparentemente positiva la trasformazione di angoscia in paura è quello che la scienza effettivamente fa cioè se quando siamo angosciati abbiamo detto non conosciamo come combattere ciò che ci angoscia la scienza ha proprio questo cioè trovare gli strumenti per combattere ciò che ci ha angosciato e che adesso ci dovrà fare paura sì se per lei è un atteggiamento positivo per me è un atteggiamento contemporaneo cioè non è né positivo né negativo cioè è così che ci si è arrivati cioè trasformare l'angoscia in paura premetto non è un discorso psicoanalitico psicologico non è non vuole essere quello il mio discorso combattere l'angoscia e trasformare l'angoscia in paura significa eliminare quel limite che ci ha posto l'angoscia cioè pensare che qualsiasi angoscia ci si pone davanti si può trasformare in paura se noi qualsiasi angoscia che abbiamo davanti pensiamo e poterla trasformare in paura e cioè in qualcosa che abbiamo lo strumento per combattere annulliamo il limite e andiamo verso quella strada lì se è positivo o se è negativo è necessario cioè è così che siamo arrivati a questa roba qui è andare andare al di fuori di questa rotta e andare al di fuori del mondo cioè quello che voglio far capire è che la cura la cura dell'apparato in cui viviamo è semplicemente rendersi conto in che apparato viviamo c'è poco da fare e quella è l'unica cosa da fare non c'è né positivo né negativo perché se parlassimo di positivo e di negativo torneremo sempre a un circolo vizioso bisogna solo essere consapevoli di in che mondo si vive quindi se parliamo di positivo o di negativo parliamo di opinioni non dobbiamo fare opinioni cioè per quanto mi riguarda non si può dare opinioni sulla necessità del mondo in cui viviamo ammettiamo che tu avessi la responsabilità insomma di affrontare una situazione come questa o se è una responsabilità diciamo politica fossi presidente del consiglio insomma come l'affronteresti insomma allora si può andare perché perché così insomma perché la verità è che insomma oppure cosa faresti insomma come sfrutteresti come useresti gli scienziati e soprattutto quali sono gli obiettivi che ti poteresti per primo insomma no per esempio c'è questo conflitto tra economia e salute insomma no cosa avviene per prima secondo te come si possono mettere insieme bisogna affrontarle oppure bisogna lasciarli andare così non lo so caliamo sul pratico insomma queste cose qua perché magari così insomma si vuole anche sentire una posizione pratica insomma diciamo che ho espresso la necessità di rendersi conto in che mondo viviamo per risolvere i problemi quindi se risolvere i problemi significa avere la coscienza in che mondo viviamo bisogna seguire quel mondo cioè quindi cosa farei io se fossi presidente del consiglio per dire seguirei la strada scientifica per curare la malattia perché se io presidente del consiglio oggi per combattere il virus dovessi come giusto che sia riformare il sistema economico per portarlo a livello del sistema ambientale del sistema sanitario perché lei ha detto anche viene prima la salute viene prima l'economia non sono in un mondo normale non dovrebbe venire prima una e poi l'altra perché sono cose che abbiamo creato noi dovremmo crearci al nostro reggimento non possiamo fare viene prima l'economia o la salute se parliamo in questi termini ovviamente viene prima la salute se parliamo in questi termini ma la sua domanda è cosa farebbe se fosse lì fare esattamente quello che stanno facendo cioè stanziare stanziare soldi nella ricerca promuovere la ricerca del virus promuovere il vaccino e arrivare a una cura ma questo si può fare questo solo nel sistema economico in cui viviamo cioè una persona intellettualmente onesta in questo in questo sistema prima di andare a ricertare il virus il vaccino eccetera dovrebbe riformare il sistema economico perché è impossibile che il 98% delle persone il 2% delle persone c'è il 98% del capitale delle altre persone cioè mi sembra mi è esagerato quindi adesso per una questione di necessità perché deve essere una cosa veloce perché altrimenti i morti aumentano e il virus modifica insomma queste cose qui faccio quello che stanno facendo cioè promuovere la cura della malattia perché stiamo ponendo al centro la salute a prescindere da quanto mi costa la vaccina a prescindere da quanto mi costa la cura da quanto mi costa la ricerca questo perché perché siamo ridotti a dove scegliere questo è il problema siamo ridotti a dove scegliere tra l'economia però la realtà che ci pone questa scelta no perché ci troviamo di fronte è come se ti trovi di fronte a un terremoto a un certo punto voglio dire ti impone di fare delle cose che magari non avresti scelto di fare se non ci fosse stato il terremoto insomma no cioè così una guerra non so insomma se ti poni di fronte a un evento che diciamo è eccezionale anche per un certo senso anche se sono eventi che ci si può aspettare perché ci sono stati nella storia e magari continueranno ad esserci insomma e si sa che più alteriamo l'ambiente più questi eventi ci coinvolgeranno però di fatto ci troviamo sempre in una situazione di contingenza di fronte a un evento inaspettato eccezionale bisogna fare qualcosa no allora è un evento nel quale la gente muore ci si contagia la cura non c'è cioè una cura eziologica cioè una cura che distrugga il virus non c'è ed è anche difficile pensare che ci sarà rapidamente i farmaci antivirali sono farmaci che sono così mentre gli antibiotici diciamo sappiamo che distruggono che distruggono i batteri insomma finché i batteri non hanno sviluppato una resistenza e quindi diventano inutili funzionano cioè la penicillina è stata un farmaco che ha rivoluzionato un determinato modo di ammalarsi malattie moncopolmoniche insomma quello che era una volta insomma per cui si moriva spesso insomma con gli antibiotici ma per quello che riguarda le malattie virali insomma ancora questi farmaci realmente efficaci come sono gli antibiotici o sono stati non ci sono quindi insomma si sa che per quello che riguarda questo tipo di patologia può funzionare soltanto la prevenzione cioè quello che è l'epidemiologia insomma conoscere bene come il virus si trasmette e cercare di opporsi alla trasmissione del virus no quindi questa cioè non è più una cura la cura individuale cioè intervenire quando uno si è ammalato e spesso quando uno si ammala si ammala gravemente beh adesso sappiamo già no quello che succede così quindi intervenire in quella fase vuol dire perdere il malato almeno uno su tre almeno uno su tre muore in rianimazione no quindi questo almeno così si leggeva insomma oppure vuol dire lasciare come dire facili che il malato soffra una situazione molto importante per un certo tempo e poi magari sapere che potranno esserci delle conseguenze a distanza cioè il virus lascia sempre diceva una virologa famosa insomma no lascia sempre la sua firma cioè lascia le tracce anche dopo insomma no anche se la malattia ci sono infezioni ci sono malattie neurologiche anche importanti che a volte seguono un'infezione virale che è successa anche anni prima no quindi insomma la la cura diciamo così in questa situazione sta nella prevenzione cioè sta nel fatto di evitare che il virus si diffonda allora lì il problema come dire è un problema che riguarda la scienza ma che riguarda anche la politica no riguarda il problema che come dire mentre al tempo della peste insomma manzoiana le città erano chiuse bastava chiudere la città chiudere la gente a chiave a casa e farla stare in quarantena per 40 giorni e insomma in qualche modo come dire c'era l'autorità sanitaria insomma che assumeva pieni poteri insomma no e quindi ma adesso in un mondo complesso come questo non è più possibile farlo insomma in un mondo complesso come questo la gente viaggia si mescola e qui sorgono i problemi insomma che è un mondo legato all'economia ai traffici insomma all'energia tutta una serie di cose per cui quando cioè non è più un mondo come una volta che può stare fermo per un periodo no se questo mondo potesse stare fermo per 20 giorni un mese tutti chiusi in casa noi l'epidemia l'avremmo già no ma questo mondo non è più possibile tenerlo fermo e quindi proprio per come si è si è si è organizzato allora cosa cosa fare conoscere il virus no e allora cosa possiamo aver visto dal punto di vista di cosa dell'atteggiamento degli scienziati in questa situazione no che che anche scienziati diversi hanno fatto proposte diverse no ma diciamo gli scienziati che più sono stati ascoltati sono stati quelli che hanno inseguito la politica oppure la politica ha preso quello che gli andava bene da questi scienziati insomma in qualche modo si è cercato di conciliare le cose cioè di mettere insieme dei provvedimenti sanitari di chiudere eccetera ma di non chiudere tutto di stare attenti di salvare di salvare l'economia no quindi mettere insieme queste cose senza fare delle scelte precise tranne in un certo momento ci hai fatto una scelta in marzo abbiamo visto queste cose però una volta ho fatto l'esempio della gangreina insomma una situazione come quella del virus non la puoi inseguire la devi anticipare e abbiamo visto invece che si è andata all'inseguimento una volta che si era riusciti a contenerlo poi lo si è lasciato andare di nuovo è successo quello che era prevedibile che succedesse adesso succederà ancora magari di nuovo queste cose qua perché a un certo punto no c'è stato l'annuncio del vaccino e allora come dire si è abbandonata una strategia di lotta per dire vabbè adesso vediamo la luce in fondo al tunnel il vaccino risolverà tutto no dopodiché adesso però sta capendo che anche col vaccino ci vorrà tutto un certo tempo bisogna resistere i morti continuano ad essere tanti e così via quindi ma c'è stato un momento in cui all'annuncio del vaccino sembrava che no e si è lasciato andare di nuovo zone rosse zone gialle poi c'era qualcuno che ha detto guardate no che se se il virus circola è probabile che se tu fai una zona rossa come in cosa limiti la circolazione se tu lasci la zona gialla lì vicino non limiti la circolazione quindi poi il virus crescerà di più no ed è successo così in Veneto no in Veneto è successo che come dire è stata fatta zona gialla perché c'erano tante rianimazioni perché insomma è attrezzato di strutture sanitarie ma il virus ha circolato e adesso siamo molto più colpiti rispetto anche alla Lombardia ci sono più morti in Veneto che dalle altre parti d'Italia sta di fatto che come dire si è andati sempre inseguendo il virus però la scienza non è stata solo questa c'è stato chi anche l'ha studiato fin dall'inizio chi ha fatto degli studi seri chi ha capito come funziona e chi ha anche prospettato determinate un determinato atteggiamento no che era quello di fare tantissimi tamponi ti sto riportando al pratico sai ma sì 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 è giusto è giusto così e tra l'altro anche prospettando i costi prospettando facendo un piano no e questo piano non è stato ascoltato no dopodiché ha fatto delle previsioni e queste previsioni si sono sempre avverate però questo tipo di scienziati che come dire che vogliono anche come dire anche rispetto al vaccino no quando c'è stato l'annuncio la gran parte degli scienziati cosa hanno fatto l'hanno preso come come il verbo di Dio no senza vedere la documentazione quando si fa uno studio scientifico si fanno degli studi scientifici c'è una sezione che riguarda i materiali e i metodi per cui uno scienziato prende visione di come è fatto uno studio no bene senza vedere queste cose qua ma semplicemente all'annuncio la gran parte degli scienziati diciamo ufficiali hanno gridato alleluia insomma no e l'hanno preso come chi ha detto invece no prima di farmelo il vaccino voglio vedere no perché ho gli strumenti per capire per leggere se questo vaccino funziona se è stato fatto bene se lo studio è stato fatto seriamente quindi se è credibile eccetera allora ha detto io prima di farmelo voglio prendere visione di come di come è stato fatto di come sono stati fatti questi studi no sono in grado di farlo ho fatto come dire uno studio tra i più importanti al mondo per capire la dinamica per capire il ruolo per esempio dei portatori sani insomma no ho fatto anche voglio vedere ecco nel momento in cui ha detto questo è stato come dire castigato dal resto del mondo scientifico no allora voglio dire anche la anche la scienza no si comporta in maniera contradditoria e sono contraddizioni che poi noi subiamo no perché vediamo che adesso siamo un po' confusi no l'immagine che viene fuori quando guardi le trasmissioni insomma i dibattiti che ci sono intorno a queste cose qua è che la gente è confusa però in realtà insomma no ci sono degli scienziati organici al sistema e ci sono altri scienziati diciamo che dovrebbero essere più credibili perché tutto quello che hanno detto da quando è cominciato questa cosa qua e che hanno fatto hanno fatto delle cose e e quello che hanno detto e che hanno prospettato si è regolarmente avverato no ecco questi però sono in qualche modo tagliati fuori dalla comunicazione e anche non sono stati ascoltati e adesso anche per il mondo politico ammettere di non avere ascoltato queste persone queste figure una di queste come dicevi tu è crisanti è imbarazzante no è imbarazzante per Zaia dire non l'ho ascoltato quando mi sono lasciato sfuggire una cosa non l'ho ascoltato quando mi ha prospettato tutto un piano di tamponi 400.000 tamponi al giorno eccetera eccetera per andare a quando la situazione era possibile non l'ho ascoltato poi non lo abbiamo ascoltato dopo e adesso e quando diceva ma ci sarà un effetto paradosso perché quelli che hanno fatto le chiusure più leggere avranno paradossalmente più morti perché evidentemente si proteggono di meno a questo punto diventa imbarazzante quindi lo si ascolta ancora meno insomma questo per dire che anche la scienza insomma ha come dire non è così un mondo chiuso un mondo a sé stante sta spesso al servizio della politica e la politica al servizio dell'opinione pubblica quindi è tutto un mondo abbastanza abbastanza confuso ed è una cosa che tutto sommato succede molto spesso nella scienza il mondo scientifico è un mondo che cavalca che cavalca le esigenze della politica insomma e la politica come dire è anche lei al traino di quelle che sono spesso le innovazioni tecnologiche che ci stanno nel mondo scientifico e che condizionano anche l'attività del mondo scientifico insomma no cioè la tecnologia che ha reso possibile adesso il vaccino diciamo ha condizionato anche le scienze tutta la politica la lotta che adesso viene fatta è spostata verso il vaccino il vaccino è la conseguenza di investimenti di come dire e di una attività tecnica insomma di una ricerca di una cosa così però voglio dire questo è ma grosse linee molto grosse insomma qualcosa così ma sarebbe stato possibile altrimenti cioè mi chiedo potevamo aspettarsi qualcosa di diverso rispetto a spinte che ci sono di tanto tipo l'unica cosa di cui però si stanno rendendo conto è che quando l'avevo detto io al discorso ma com'è allora si muore di fame no se tu se tu badi soltanto all'aspetto sanitario e trascuri quello così si muore di fame però si stanno rendendo conto che se tu non curi prima o non affronti in maniera decisiva il problema del virus la politica come dire muori di fame comunque cioè quando cerchi di salvare tutte e due le cose alla fine tu tieni aperto un problema che non si risolve mai vediamo se si risolverà col vaccino insomma ma ci vogliono ancora parecchi mesi quindi insomma mentre forse era possibile intervenendo in un momento giusto salvare tutte e due le cose cioè rendere possibile ancora le attività economiche ma isolare singolarmente ogni focolaio nel momento in cui si però questo quando la cosa era ancora controllabile cioè quando i casi erano pochi no oppure bisognerebbe riportare nuovamente una situazione in cui i casi sono pochi chiudendo completamente e e poi però mantenere un impianto di controllo perché quella è l'unica cioè voglio dire quella è l'unica strada la strada della cura è una strada fallimentare nel senso che muoiono si muore cioè muoiono moriamo si muore nelle rianimazioni insomma no non è che quando tu vai perché ci sono tante rianimazioni ti salvi la vita vai in rianimazione passi un periodo terribile e comunque rischi di morire no allora non è molto bello rischiare di morire è meglio non ammalare ma per ammalare bisogna intanto stare in casa e una volta che si è contenuta questa cosa bisogna mettere in atto un sistema finché il vaccino non ci avrà liberato da queste cose un sistema tale per cui è possibile tracciare tutti quanti isolare i singoli focolai e questo potrebbe rendere possibile anche contemporaneamente le attività economiche ma bisogna avere degli strumenti bisogna avere un piano che qualcuno aveva fatto se vai su 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 facebook sul mio caso di facebook c'è anche il piano di Crisanti insomma no di che aveva proposto insomma anche alla regione Veneto e c'è anche lui che spiega lo studio che aveva fatto insomma no lo spiega in una comunità scientifica insomma per cui è anche interessante capire quello studio insomma e l'importanza di quello studio allora insomma ti rendi conto che c'è una anche qua c'è una certa variegatura di posizioni e che spesso anche come dire c'è un'opinione pubblica anche i giornalisti spesso ci ci disorientano insomma e quindi la scienza anche questa è un qualcosa di come dire di non di non assoluto insomma non sarà la verità però voglio dire quello che io dico rispetto ai discorsi teorici giusti come facevi tu no però c'è un piano in cui non ti puoi limitare alla teoria no c'è un piano in cui sei di fronte a una realtà e rispetto a quella realtà devi intervenire devi sapere cosa fare perché altrimenti molli tutto e quindi lasciamo le cose che vadano come vada però nel momento ecco però in quel piano di realtà devi anche sapere dovresti avere gli strumenti per sapere a chi credere e a chi no cioè chi fa discorsi o fa proposte piani insomma dovresti sapere leggere all'interno della comunicazione che ti viene data quindi dovresti capire chi è serio le persone che sono credibili che si possono ascoltare e le persone che invece spostano il piano della discussione e ti fanno disperdere in tutta una serie di cose che non sono più dove poi non sei più che pesce pigliare insomma e ti accorgi che le cose sfuggono perché man mano che ci corriamo dietro siamo sempre alla rincorsa di qualcosa che ci sfugge e tutti quanti abbiamo questa sensazione di scontento nel primo lockdown se siamo come dire in qualche modo consolati perché pensavamo che il nostro sacrificio fosse in qualche modo poi compensato da è stato anche compensato e poi ce lo siamo lasciati scappare ce lo siamo scappati anche quando c'era chi ci diceva no è questo il momento per no per fare di più no invece c'è qualcun altro che ci ha detto no va tutto bene è passato tutto insomma no il virus non è più non è più minaccioso non fa più male eccetera eccetera no allora insomma quello che io volevo cercare di dire è che bisogna anche affrontare la realtà del momento ma sapere in questa realtà in tanti canali di comunicazione quali sono i canali di comunicazione che vanno in qualche modo ascoltati e seguiti l'altro cosa è ma è un problema insomma che magari verrà più tardi è di come il mondo non sarà più come prima no una volta che questa cosa sarà cambiata allora bisognerebbe aver chiaro quali sono le cose che hanno un futuro e quali sono le cose che non hanno un futuro cioè quello di usare questa crisi perché insomma poi è una crisi una crisi in tutti i sensi sanitaria economica eccetera enorme ma sapere ricostruire un mondo che sia anche più umano cioè un mondo che possa permetterci di di vivere di sopravvivere intanto insomma che non sia un mondo che vada verso l'autodistruzione come ci sono tanti segnali che ci fanno capire no invece della catastrofe insomma cioè come ci possa essere una catastrofe che si annuncia all'orizzonte e che sia opera umana e come rivedere i nostri comportamenti grazie anche a questa crisi i nostri modelli di sviluppo eccetera che magari non avremmo mai rivisto se non ci fosse stata questa crisi e quindi come rivederli questi questi una cosa banale il mondo delle crociere che inquina eccetera eccetera no sarà ancora opportuno ritornare a fare crociere come si facevano prima insomma con queste grandi navi che inquinano eccetera eccetera questo mondo del turismo in cui si vada per tutto eccetera eccetera che sposta a migliaia di miliardi è ancora possibile mantenerlo così bisogna continuare a finanziarlo oppure no sono problemi che si pongono insomma no così semplicemente per essere per tradici per stare su una realtà così insomma oppure siamo tutti ansiosi di ritornare a come dire a recuperare il tempo che abbiamo perso e ritornare alla vita di prima e sappiamo che nella vita di prima e questo ce lo dice anche la scienza la vita di prima non è più possibile consumarla perché il limite il discorso della realtà che tu dicevi prima è quello legato alle potenzialità della terra no quindi la terra ha delle sue potenzialità noi non possiamo crescere all'infinito no siamo abbiamo moltiplicato per quattro volte negli ultimi anni la popolazione mondiale insomma nell'ultimo secolo quindi non è che possiamo moltiplicarla altre quattro volte nel prossimo secolo perché non c'è spazio nel mondo non possiamo continuare a inquinare come ben qua non possiamo continuare a distruggere le foreste come cioè non possiamo fare tutte quelle attività che abbiamo fatto fino adesso cioè dobbiamo rivedere i nostri saremo capaci se saremo capaci avremo anche delle prospettive di sopravvivere nonostante il superamento della crisi economica ma se non saremo capaci di fare questo nonostante la medicina la tecnologia tutti i sviluppi delle scienze poi internet il 5G e tutto quello che vuoi ci aspettano tempi molto duri rischiamo di non rischiamo un'altra rischiamo una catastrofe ce ne sono già state nella storia della terra del mondo io penso ce ne saranno ancora anche se cerchiamo di evitare ecco in cui il genere umano magari forse potrà sparire e lascerà il posto a qualche altra a qualche altra spezia che magari lo sostituirà nel corso dei millenni ma se non facciamo questo e non approfittiamo di questa crisi insomma per rivedere modelli di sviluppo cioè se il turismo in realtà non è come dire si dimostra che non funziona più di tanto no cioè si ridotta un'industria non possiamo per esempio continuare a finanziare il turismo in maniera illimitata cioè dovremmo anche fare in modo che quelle attività che non sono più il futuro o perlomeno nella quantità in cui si sono realizzate muoiono anche da sole cioè bisognerà fare anche delle scelte in questo senso bisognerà fare delle scelte che ci permettano un futuro sostenibile rispetto a a come si stava andando fino a questo momento insomma no cioè intanto voglio chiarire una cosa cioè l'aspetto teorico della della situazione che stiamo prospettando è necessario per stare nell'aspetto pratico mi spiego meglio mi spiego non vuole essere retorica allora se io penso che sia necessario capire in che mondo viviamo per poterci vivere per capire in che mondo viviamo è necessario ripercorrere alcuni aspetti che ci siano fatti arrivare a questo mondo in cui viviamo quando lei mi ha chiesto prima di quello che farei io praticamente io l'ho risposto andrei incontro al virus come stiamo facendo a prescindere se 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 avessi preferito prevenire o non prevenire a prescindere adesso io andrei incontro al virus no oggi come oggi quello che si deve fare per forza per arrivare a una soluzione di cura però questo questo inseguire il virus questo parlo del virus perché oggi vabbè questo inseguire la malattia e arrivare a una cura più o meno cura magari o terapia quello che vogliamo dire lo farei sempre presupponendo però che alla fine di questo periodo ci fosse una un cambiamento radicale dell'apparato in cui viviamo cioè se a lei sembra normale che abbiamo inventato i soldi cioè stampiamo stampiamo denaro abbiamo la capacità di stamparlo che quindi sta a noi stampare denaro cioè la capacità di produzione di denaro è la nostra capacità cioè abbiamo creato noi gli stati abbiamo creato noi le società abbiamo creato noi il denaro e se nonostante abbiamo la capacità di di stampare denaro cioè di crearci ricchezza nonostante questa nostra capacità di crearsi ricchezza dobbiamo combattere la guerra fra salute e denaro cioè se se sono due cose se sono se il denaro è quella cosa che abbiamo abbiamo diciamo inventato mettiamo abbiamo creato noi no è è incredibile questa cosa che dobbiamo scegliere fra una cosa che abbiamo inventato affinché ci renda la vita migliore contro la salute cioè è una cosa impensabile quindi io sì farei ricerca sul vaccino qualora ci fosse necessità fare la quarantena quello che stiamo facendo che tutti gli stati al mondo stanno facendo non è solitare quello che tutti stanno facendo però con la consapevolezza che una volta finita questa storia qui bisognerebbe radicalmente non dico cambiare ma perlomeno rivedere gli apparati e i sistemi in cui viviamo noi perché pensare a un sistema economico di questo tipo che quindi deve andare in conflitto con la salute deve andare cioè solo pensare che l'economia debba andare in conflitto con la salute è impensabile ma è una cosa che ci siamo costruiti noi cioè c'è poco da fare rivedere il sistema sanitario rivedere il sistema scolastico rivedere il sistema informatico il sistema tecnologico cioè va bene mettersi in pratica e combattere il virus siamo tutti d'accordo perché ovviamente c'è in gioco la vita o la morte e su questo siamo d'accordo però dobbiamo farlo consapevoli che una volta finita questa storia qui visto che non si è ancora fatto dobbiamo rivedere l'applicazione sistematica di questa architettura diciamo di questa architettura mondiale quindi dobbiamo rivedere l'economia ripeto la finanza la scuola eccetera eccetera la scienza in tutto questo dove cioè non è non a caso il diciamo il simposio tecnico scientifico del governo si chiama comitato tecnico scientifico cioè c'è un comitato che si chiama tecnico scientifico che deve guidare uno stato alla gestione sanitaria epidemiologica di una malattia cioè questo c'è a capire quanto la sanità sia legata a parte teoricamente cioè quando si è legata praticamente all'applicazione della scienza e della tecnica cioè c'è un comitato che si chiama tecnico scientifico quindi pensare di agire in un mondo in cui un comitato tecnico scientifico gestisce o meglio consiglia la gestione epidemiologica di una malattia a un governo senza capire teoricamente storicamente umanamente che cos'è la tecnica che cos'è la scienza è un mondo in cui non si può attuare una pratica perché saranno pratiche senza pratiche a breve periodo non saranno pratiche a lungo termine perché saranno pratiche di rincorsa non di prevenzione come dice lei quindi per attuare pratiche di prevenzione in queste società in questo mondo che ha un comitato tecnico scientifico per valutare questa roba qui è fondamentale conoscere la tecnica e la scienza io non dico che l'uomo della strada deve conoscere cosa significa tecnico significa scienza ma perlomeno rendersi conto in che mondo vive come funziona il suo mondo cioè deve rendersi conto che non ci sono più ideologie che sono finite le ideologie perché le ideologie sono finite le ideologie il capitalismo non esiste più il cristianesimo non esiste più l'etica non c'è più c'è qualche diciamo qualche puntino di ecologia di ambientalismo ma è sempre qualcosa di non radicale quello che stiamo stiamo pensando noi come ambientalismo e come ecologia è sempre qualcosa di rincorsa di prevenzione non di prevenzione di rincorsa quindi tutte queste questi sistemi chiamano io non volevo usare questa parola però chiamano i sistemi questi sistemi queste architetture sociali no? su cui si passa tutta un'altra vita quindi ideologie religioni capitalismo anche il comunismo come lo è stato il socialismo tutte quelle cose che erano nate per risolvere problemi cioè il comunismo era nato per l'uguaglianza sociale il capitalismo come l'incremento del profitto cioè tutte cose che erano nate per risolvere dei problemi tutte queste 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 architetture sociali hanno comunque al loro interno una cosa che la tecnica e la scienza che la tecnica più della scienza non ha cioè non ha praticamente il capitalismo il comunismo le religioni hanno all'interno le passioni umane cioè hanno come deficit è un deficit per la per la produzione razionale la passione umana è un deficit hanno come deficit la passione umana anche l'economia l'economia onesta è più razionale che abbiamo assolutamente anche dentro l'economia c'è c'è la passione umana i sentimenti le emozioni sbagli errori io non voglio dire che per non sbagliare non dobbiamo più avere passione per carità c'è anche se viviamo solo di meno male che ci sono quelle cioè però tutte queste queste architetture sociali per non chiamarli sistemi queste architetture sociali hanno dimenticato per essere più razionali possibili hanno dimenticato l'apparato umano ideologico cioè perché diciamo perché ci rendiamo conto che nel mondo non ci sono più ideologie perché è vero così non ci sono più ideologie perché quelle ideologie che presuppongono delle passioni umane che presuppongono degli errori degli sbagli legittimi per me giusti per me legittimissimi visto che tutte queste 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 architetture sono in contrasto fra loro cioè il capitalismo è in contrasto col comunismo la religione in contrasto con la scienza devono per forza levare di mezzo le passioni umane e quindi devono rafforzare uno strumento ok quindi per per andare sempre una sopra l'altra per vincere una sull'altra non bastano più le ideologie come bastavano prima ma bisogna rafforzare la potenza dello strumento cioè se prima lo scopo finale del mondo in cui viviamo queste sono cose apprendimenti teoriche ma purtroppo se non si capiscono queste cose non si può agire al mondo cioè per agire bisogna conoscere se la scienza dice che per conoscere bisogna agire io dico che per agire bisogna no io dico la vita è così bisogna agire per conoscere per tornare indietro al senso del limite no bisogna conoscere per agire non agire per conoscere quindi torno alla teoria teoria è sempre teoria ma nella pratica c'è lo scopo di tutte queste forze che fanno parte del nostro mondo e che hanno fatto parte prima era l'incremento della sua del suo obiettivo per esempio il capitalismo aveva come obiettivo l'incremento del profitto privato bel profitto incremento del profitto il comunismo aveva come come scopo l'incremento dell'uguaglianza cioè l'uguaglianza sociale ok la religione aveva come scopo l'etica religiosa intesa come bla 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 tutto quello che intende i cristianesi ma sono resi conto che per arrivare al allo scopo di ognuna di esse bisognava incrementare la forza di uno strumento che si arriva ad arrivare a quello lo strumento che si arriva ad arrivare a quello è lo strumento tecnico scientifico cioè anche oggi esempio anche oggi la nazione più forte del mondo è quella nazione che se domani come è successo l'America l'Inghilterra sono state le prime ad avere un vaccino ok sono state le prime a somministrare un vaccino essendo le prime a somministrare un vaccino quindi avendo uno strumento tecnico scientifico più forte delle altre non parlo di strumenti informatici né tecnologici ma di strumenti tecnici scientifici cioè strumenti che sono capaci di modificare la natura e di rendere disponibile all'uomo il vaccino alla fine tu prendi un virus lo inattivi detto in maniera non professionale comunque se lo scopo prima era l'incremento per esempio del comunismo del capitalismo della democrazia l'uguaglianza eccetera eccetera adesso per raggiungere quello scopo bisogna aumentare la potenza dello strumento se adesso però per raggiungere quello scopo bisogna aumentare la potenza dello strumento lo scopo non è più quello di prima lo scopo è l'aumento dello strumento quindi da che lo strumento tecnico scientifico era prima un intramezzo per arrivare a quel determinato scopo adesso lo scopo finale è proprio l'incremento dello strumento perché se noi come scopo ci poniamo ad incrementare lo strumento tecnico scientifico riusciamo ad essere più potenti di altre nazioni ho fatto esempio del vaccino con un esempio così di oggi quindi intanto bisogna capire che siamo in mondo senza ideologie perché se pensiamo all'ideologia ancora è pazia c'è Salvini che l'altra volta ha detto che pensano a Berlinguer per dire la spollia pura quindi la teoria va bene che a volte non è applicabile alla pratica ma se noi non capiamo in che mondo viviamo e in che sistema in che architettura viviamo a livello sociale non possiamo agire cioè è questo che voglio voglio far capire cioè quello che penso io è che il politico cioè colui che agisce mettiamo così colui che agisce sulle pratiche sociali non debba essere più il politico ideologico ma il politico amministratore lo so che questo è ancora peggio del politico ideologico perché poi la passione umana è finita poi non ci sono più sentimenti non ci sono più ideologie è così però purtroppo in un mondo in cui lo scopo non è più l'ideologia ma è l'incremento dello strumento tecnico scientifico lo vediamo anche oggi dai nomi che danno ai comitati il politico è colui che capisce qual è lo scopo di una società contemporanea è che per avanzare nella società contemporanea deve incrementare lo strumento tecnico scientifico io lo seguo e lo sto dicendo ma praticamente in contraddizione con quello che ho detto fino adesso fino adesso ho detto che bisogna porre un limite che la scienza non è verità che la tecnica uscì delle passioni umane ma io voglio stare al di fuori dell'opinione cioè non dare un'opinione significa rendersi conto semplicemente in che mondo viviamo e agire praticamente rispetto al mondo in cui viviamo questo è penso che quindi che c'entra la sanità con questo cioè se noi capiamo se noi se amministratori politici medici e tecnici della sanità anche l'istruzione stessa capisce cos'è la sanità cos'è diventata e cosa ha come scopo il sistema sanitario come tanti altri sistemi che hanno come scopo l'incremento dello strumento scientifico e tecnico solo in quel modo un amministratore o un politico può far bene a una società perché sa dove sta agendo sa cosa sta facendo e sa come deve farlo questo qua questa strada qui ci porterà verso quel paradiso tecnico che diciamo prima apparentemente un paradiso sociale apparentemente il paradiso dell'economia e dell'uguaglianza che poi in un futuro più lontano potrà magari presupporre il fatto che l'uomo voglia ritornare a cercare la verità questo è quello che penso io quindi la teoria chiamiamola teoria nel senso va bene parlare della pratica attuativa però se non riusciamo a capire le condizioni che ci circondano non possiamo attuarle una domanda l'unica domanda ha parlato prima di mondo umano questa è una cosa che mi interessa molto facciamo in breve perché sono tre ore così cosa intende lei per mondo umano lei presuppone un mondo più umano ma cosa si intende per mondo umano cosa intendo per mondo umano un mondo in cui l'uomo abbia il suo equilibrio con cioè l'uomo è una parte della natura no è una componente come tutte le altre insomma in cui penso che l'uomo invece sia diventato come specie una specie che se dovessimo paragonarla a un corpo umano insomma l'uomo è diventata come una una cellula che si è sviluppata come un cancro no cosa fa il cancro il cancro si sviluppa in maniera non più controllata e invade un po' tutto il resto dell'organismo finché un po' alla volta l'organismo stesso in cui il cancro nasce muore e quindi muore anche il cancro no non so se mi sono spiegato sì è lo stesso un po' come fa il virus no a un certo punto il virus si cresce aumenta eccetera si contagia e fa morire l'ospite quindi muore anche lui cioè voglio dire ha come principio soltanto quello di riprodursi di crescere di svilupparsi e di invadere di occupare tutto lo spazio possibile lo fa trasmettendosi da uomo a uomo nel momento in cui la malattia poi è grave ammazza l'uomo ammazza l'ospite muore anche il virus il quale si deve riprodurre finché se ha ammazzato tutti gli uomini di questo mondo per assurdo muore anche il virus allora insomma l'uomo deve ritrovare come specie come cellula diciamo come componente di un organismo che è quello più grande che lo ospita la natura con tutti i suoi esseri viventi al suo interno insomma deve trovare il suo equilibrio dove la sua intelligenza può permettergli di vivere meglio vivere meglio e comportare nella storia ha voluto dire insomma fare meno fatica insomma no vincere una parte del dolore inutile insomma no quindi con la tecnologia diciamo sostituire al lavoro fisico in parte un lavoro fatto dalla tecnologia però deve non deve più o non deve limitarsi nel distruggere l'organismo che lo circonda che è la natura insomma no e quindi se riesce a fare questo e quindi per fare questo tu dissevi prima denaro no il denaro serve certo lo puoi fabbricare ma il denaro da solo fabbricato non serve non fa altro che aumentare il denaro in circolazione quindi ridurre il potere d'acquisto il denaro serve per produrre per produrre beni insomma per comprare beni e i beni bisogna produrli no allora i beni servono per diciamo dovrebbero servire per migliorare la qualità della vita no noi però abbiamo secondo me abbiamo superato un limite abbiamo superato quel limite che diceva Illiz per cui le cose servono per stare meglio però noi adesso facciamo delle cose che invece che farci stare meglio ci fanno stare peggio ci fanno vivere peggio no abbiamo superato questo limite c'è un equilibrio ecco insomma quindi l'uomo gli uomini insomma noi come società dobbiamo ritrovare un nostro equilibrio con l'ambiente che ci circonda dobbiamo fare sì che le api non muoiano non so che la foresta non venga consumata per come dire per farsi allevamenti di soia per poi produrre bestiame per poi mangiare questo quindi dobbiamo rivedere il nostro modello di vita dobbiamo pensare che si può vivere con meno consumando di meno e quindi dobbiamo ridurre bene o male i consumi perché non c'è possibilità di crescere all'infinito e di consumare all'infinito no tu dicevi prima povertà e cose ma se noi possiamo essere ricchi se ci sono tanti poveri se dobbiamo se dovessimo essere tutti ricchi come siamo adesso il mondo non riuscirebbe a sopravvivere voglio dire andremo incontro più rapidamente ancora a una catastrofe possibile una catastrofe che poi è una catastrofe ambientale il fattore principale che non individuo io ma che insomma lo individuano i testi scientifici è il riscaldamento globale allora questo cioè ci salviamo ci salviamo se riusciamo a ritrovare un equilibrio se dobbiamo con l'ambiente e questo presuppone il fatto che dobbiamo consumare meno dobbiamo imparare a vivere con meno con più valori e meno beni artificiali cioè meno beni di consumo ma scusi questo presuppone potrebbe presupporre una politica di natalità cioè non voglio essere molto crudo no ma sai la politica di natalità è una politica che avviene anche senza costrizioni cioè nel senso che i popoli più sviluppati diciamo così fanno meno figli no quindi automaticamente quando si va incontro a una cosa di sviluppo si fa meno figli sta a vedere però bisogna capire quando quando lo sviluppo è uno sviluppo sostenibile quando non lo è cioè come riusciamo a rendere uno sviluppo sostenibile cioè noi abbiamo il problema invece di in Italia abbiamo un problema di denatalità diciamo stamattina che abbiamo c'è un bambino ogni 5 anziani oltre 65 anni che è un problema la popolazione in Italia sta diminuendo no e mentre i popoli più sottosviluppati che soffrono di più la fame che hanno la maggior povertà sono popoli che fanno tanti figli perché l'unica come dire l'unica possibilità di assistenza sociale di stato sociale è garantita dai figli in particolare del figlio maschio perché è quello che in qualche modo darà da mangiare al padre quando invecchia se invecchia quindi il problema di natalità è anche un problema che non prevede una soluzione di tipo nazista è un problema che ritrova il suo equilibrio se il mondo ritrova un suo equilibrio se il problema della fame si risolva non portando i popoli che hanno la fame a livello dei popoli diciamo a livello dei consumi americani ma se i consumi americani si riducono in modo tale da ristabilire un certo equilibrio non so se mi spiego diciamo sono sono i popoli sviluppati che hanno consumi maggiori e spesso consumi inutili no quindi su questi consumi dobbiamo bene o male incidere che sono quelli che inquinano di più cioè tutti i viaggi aerei inutili che facciamo di qua e di là tutti i trasporti da una parte all'altra tutte il turismo i beni che non sono necessari la produzione di immondizie insomma si può vivere bene e con meno se non impariamo a vivere con meno cose che potrebbe permettere di vivere con di più anche a popoli che invece in questo momento hanno il problema della fame e da questo punto di vista fare anche meno figli ma senza che questa sia un'imposizione però c'è un problema demografico cioè non possiamo negarsi che la popolazione nel 1900 era un miliardo e mezzo di abitanti adesso siamo 8 miliardi no 8 miliardi hanno un'incidenza di persone sulla terra le quali dicono che ne può ospitare al massimo 10 allora se li raddoppiamo come è in una curva di sviluppo geometrico la popolazione se da 8 diventano 16 è chiaro che non ci stiamo più sulla terra no se non ci stiamo più sulla terra vuol dire che o ci sono guerre o ci sono fatte apposta per oppure devono intervenire dei fenomeni eccezionali insomma oppure distruggiamo l'ambiente insomma cioè l'ambiente diventa un ospitale e quindi si muore perché ci sono i fenomeni estremi in tutto quello che vuoi insomma questo succede in ogni fenomeno cioè quando tu studi una tipo una una curva di crescita batterica cioè metti dei batteri in una piastra in un luogo in un ambiente chiuso in cui questi batteri con con una sostanza nutritiva insomma possono crescere possono svilupparsi questi cominciano a raddoppiare esponenziale crescono in maniera esponenziale questa curva a un certo punto raggiunge un massimo un tetto che è quello l'equilibrio tra le risorse che ci sono nella piastra e la capacità di sviluppo dei batteri e il numero dei batteri poi se i batteri crescono e l'alimentazione e le sostanze diminuiscono questa curva trova un equilibrio e poi comincia a calare cioè man mano quello che saliva prima poi scende finché ritorna come la gaussiana e questo poi è l'andamento insomma quello che può cambiare è il plateau cioè quanto la curva può rimanere in una situazione di equilibrio tra la quantità di germi che si riproducono e le sostanze che ci sono dopodiché a un certo punto quando le sostanze sono calate ancora gli alimenti insomma le risorse la curva cresce e quindi la popolazione diminuisce progressivamente tutti i fenomeni sono un po' così insomma legati alla popolazione alla demografia quindi noi abbiamo raggiunto poi tra l'altro non è neanche tanto importante quanti siamo ma in che con che rapidità abbiamo raggiunto questa cosa cioè la velocità per millenni la popolazione è stata sotto un miliardo in cent'anni la popolazione diventa otto miliardi è un problema è un problema la rapidità in cui avviene il fenomeno è chiaro che è ancora sostenibile probabilmente ma c'è chi dice che il pianeta può essere abitato finché diciamo la metà del suo territorio del pianeta è ancora incontaminato in qualche modo verde non inquinato ecco al di sopra di quello il problema comincia a essere vitale per la specie umana ma noi siamo l'unica specie che è in grado che ha trasformato come un tumore insomma abbiamo abbiamo trasformato tutto il pianeta a nostra secondo le nostre esigenze basta vedere semplicemente basta uscire di casa e vedere come abbiamo trasformato il territorio insomma a scapito di tutte le altre specie dobbiamo ritrovare un equilibrio c'è poco da fare se riusciamo se siamo ancora in grado di fermarsi almeno di fermarsi io penso che per fermarci ovviamente questo è un è un capitolo che avremo bisogno di un'altra 6-7 ore di discussione nel senso quindi non è non allunghiamo però io penso che per quanto mi riguarda è necessaria un'imposizione su questo non penso che la coscienza umana arrivi a tanto però poi non in posizione di tipo nazifascista per carità non è però le crisi le crisi le crisi o la guerra c'è chi c'è chi vedeva per esempio Giulietto Chiesa era molto era molto come dire possibilista su una guerra insomma possibile una guerra fatta non tanto per ma anche proprio per per uccidere per per togliere di mezzo parte della popolazione le crisi questa è una crisi insomma è una crisi che può mettere in discussione cioè chiaramente non ci si mette in discussione finché le cose vanno bene finché le cose vanno bene si sale quando avviene una crisi questo poi dipende dalla dimensione della crisi dall'entità dalla consapevolezza che si acquista in questa crisi insomma dalla capacità poi di lasciare andare quelle cose che sono che più consumano che più inquinano voglio dire dalle cose più inutili e rivedere quali sono invece le cose necessarie necessarie per essenziali per la vita di ciascuno di noi e questo ed è necessario per la vita di ciascuno di noi anche l'equilibrio che noi possiamo avere con il mondo che ci circonda perché in quello viviamo insomma cioè pensa all'organismo a un organismo umano tu non puoi pensare che a un organismo in cui il fegato sia in contrasto con il cuore e poi con con la minza e così via cioè l'organismo funziona se gli organi vanno insieme se il benessere di un organo è anche il benessere degli altri quindi questo è il presupposto perché l'organismo funzioni e non lo puoi mettere in contraddizione ne sono delle cellule che possono essere privilegiate rispetto alle altre e andare a occupare il posto degli altri organi e togliere lo spazio agli altri organi quelli sono l'ambito della malattia cioè in cui si perde l'equilibrio la sanità è un la salute è una è un'armonia è un equilibrio tra i nostri organi interni la nostra omeostasi il nostro così cosa che può far star bene anche poi il cervello che è quello che insomma pensa che dirige eccetera eccetera ma ma questo è quindi è così anche in un ambiente più grande insomma se c'è un equilibrio tra gli esseri umani che sono una componente di questo del pianeta insomma e il resto allora c'è c'è la salute del pianeta e si può vivere in qualche modo bene se non c'è questo equilibrio se una specie già prevale in maniera assoluta su tutte le altre ma poi all'interno di questa specie ci sono elementi che prevalgono sulle altre elementi ricchi e altri poveri e così via insomma ci sono troppi squilibri non non si può non si può pensare di portarlo all'estremo o o di vivere così a lungo insomma e questi squilibri diciamo così si sono molto accentuati anche dal punto di vista demografico negli ultimi anni insomma cioè la progressione dei fenomeni è diventata cioè il fattore tempo con cui si sviluppano i fenomeni è importante la rapidità con cui le cose si evolvono questo non è un fattore indipendente insomma colgo diciamo nelle sue affermazioni una rivoluzione quasi estetica nel senso di percepire il bello come rapporto fra le varie componenti come geometrie come l'armonia come armonia il bello il bello vero quello vero magari magari non lo so io non è che sono molto ottimista riguardo al futuro però però questa è un po' la realtà insomma cioè credo che non non si scappi da questa cosa dobbiamo far tesoro delle crisi per questo anche questa crisi potrebbe essere se ci porta a rivedere il nostro modo di vita pur con tutte le contraddizioni e a fare delle scelte per il futuro che siano che ci portino a una maggior sobrietà insomma c'è poco da fare una maggior sobrietà a capire cosa è importante e cosa non lo è a rinunciare sì insomma a rinunciare a quelle cose che sono semplicemente il frutto di un modello cioè di imitazione di un desiderio indotto insomma di una società capitalista che ci impone se riusciremo a fare questo forse i nostri figli vedranno ancora i miei nipoti vedranno ancora un futuro se no insomma saranno grossi problemi per loro insomma ripeto soprattutto per il tempo per la rapidità come evolve cioè io vedo incremento insomma la differenza no cioè io ho nipoti di 13 14 anni insomma sono un'altra cosa sono un'altra cosa rispetto ai miei figli cioè è un altro mondo e quindi è difficile insomma reggere a questa rapidità cioè non so quando ero piccolo io il mondo di mio padre o di mio nonno poteva essere simile al mio insomma abbastanza adesso il mondo dei miei nipoti è completamente un altro quindi è anche questa rapidità che è una rapidità culturale di capacità di adattamento che possiamo avere rispetto alle variazioni della realtà cioè il discorso il dialogo tra le generazioni anche è molto è molto più difficile no molto più quindi questo produce anche conflitti insomma poi è chiaro ci sono sempre le eccezioni insomma no ci sono dei giovani molto bravi ci sono dei ragazzi però insomma prendendolo in maniera più generalizzata così vabbè dai finiamo qua sì sì comunque io volevo un attimo consigliare una lettura se riesce a leggere questo sul suo canale che è molto interessante qua riguarda l'argomento di oggi non so se ce l'ha se riesce a trovare riflessioni filosofiche sulle scienze e gli scienziati di chi è? Comte ah Comte sarebbe interessante leggerlo anche non lo so non so se l'ha se l'ha mai letto sul canale c'ha 800 video sul suo canale non so se quanti? no 700 sicuro no ce ne sono 4-5 mila ah mi scusi chiedo venia no poi qualche migliaio li ho tolti